Bene, bentornati, attacchiamo il pomeriggio di questa prima giornata del forum energia e sostenibilità e lo facciamo andando a fare un focus su un argomento che è già immerso in modo abbastanza forte e che è anche una delle principali novità, da un lato legislative, ma dall'altro proprio, oserei dire, quasi filosofiche nel senso che si è preso atto con le energy community di un fatto, di qualcosa di cui si parlava da tanto tempo questa figura del prosumer, in effetti le rinnovabili e spesso il mondo dell'energia in questo anticipa poi delle tendenze che si vedono in altri campi, pensate al fatto che domani potremmo essere prosumer di mobilità, prosumer di altre, non solo di energia, ecco, ma le energy community senz'altro danno a questa figura potenziale, in parte solo potenziale, una dimensione molto più strutturale, diciamo. Allora, abbiamo molti interventi, io lo dico ai relatori con i quali magari non ho avuto occasione ancora di parlare, vi divido in tre gruppetti, vi faccio salire quindi a gruppi e ognuno di voi farà il proprio intervento, chiedo a tutti di essere un po' sintetici, insomma, se avete 15 minuti consideratene 13, in modo tale che poi magari alla fine ci resta qualche minuto per fare un minimo di scambio o di dibattito su quanto è emerso, naturalmente. E allora, iniziamo, intanto chiedo di raggiungermi al dottor Ciaccia, responsabile dell'unità EFR di Arera, quindi l'autority che regola attualmente l'energia, il settore dell'acqua, regola anche i rifiuti, poi abbiamo il dottor Sgroi di Fieldfisher, eccolo qua, benvenuto, che ci parlerà della fiscalità dei prodotti energetici e Bellosi invece dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, e Monopoli, non Monopoli, e Monopoli, che ci parlerà della transazione, è sempre, diciamo, che il gioco deriva appunto dal monopolio, ma insomma, la transazione dei prodotti energetici come leva alla transizione e all'impiego di fonti rinnovabili, di tema da non confondere con quello degli extra profitti che abbiamo parlato fino a poco fa. Allora, io passo subito la parola a Ciaccia, qui alla mia sinistra, chi desidera può fare l'intervento dal podio, ma insomma, come siete più comodi, il quale ci introduce all'argomento, proprio affrontando il tema delle varie tipologie di autoconsumo. Buongiorno a tutti, appunto, iniziamo guardando, diciamo, il quadro generale, quindi contestualizziamo le comunità energetiche nell'ambito del concetto più generale di autoconsumo e andiamo a vedere le diverse tipologie di autoconsumo fattibili oggi e fattibili in futuro a seguito del recepimento dei decreti legislativi, dell'attuazione dei decreti legislativi 199 e 210 del 2021. Allora, diciamo che tutti conoscono più o meno il concetto di autoconsumo, storicamente questo concetto ha avuto una sua evoluzione, nel senso che inizialmente per autoconsumo, o meglio per autoproduzione, si intendeva la produzione e il consumo all'interno dello stesso sito, diciamo, dell'energia elettrica prodotta e autoconsumata, poi successivamente magari anche un capo allo stesso soggetto che era sia produttore che cliente finale o gruppo societario e poi, diciamo, l'evoluzione che ha avuto con i SEO e con altre fattispecie che hanno permesso di far sì che il produttore e il cliente finale potessero essere anche soggetti diversi. Con le due direttive, la 944 e la Red 2, fondamentalmente questo concetto è stato ulteriormente allargato e attualmente potremmo dire che l'autoconsumo identifica il consumo di energia elettrica prodotta e consumata sia istantaneamente sia per il tramite, diciamo, di sistemi di accumuli, indipendentemente dai soggetti che lo fanno, quindi dal fatto che il produttore e il cliente finale siano lo stesso soggetto e purché devono operare nello stesso sito, tra virgolette, poi capiremo perché, indipendentemente anche dal fatto che l'impianto sia da fonti rinnovabili, perché in realtà l'autoconsumo è indipendente dal fatto che si produca da fonti rinnovabili e indipendentemente anche dal fatto della presenza di un collegamento privato. Questa, diciamo, è l'ultima novità introdotta con i due decreti legislativi di cui parlavo poc'anzi. L'autoconsumo induce una serie di effetti benefici sul sistema elettrico fondamentalmente imputabili da un lato alla riduzione delle perdite di rite, chiaramente a seconda della particolare tipologia di autoconsumo, cioè bisogna lavorare allo stesso livello di tensione fondamentalmente, e alla potenziale diminuzione dei costi di sviluppo e di esercizio delle reti elettriche, in quanto essendo la produzione vicina al consumo fondamentalmente, si evita di sviluppare reti. Importante, è l'autoconsumo, non l'autoproduzione, che determina lo scaricamento, diciamo, che scarica meno costi, per esempio, sulla rete o richiede meno infrastrutture. Questo per esempio è una roba, no, per dire, perché anche qui, se pensiamo al passato, c'è stata poca attenzione a questo, anche laddove si è, per esempio, incentivato, giustamente, le fonti rinnovabili, a volte non è stato però incentivato il comportamento più virtuoso, ma sono state fatte regole per cui autoconsumare o immettere energia in rete era quasi equivalente. Oggi lo è di meno perché i costi di energia sono molto elevati, ma questa chiave dell'autoconsumo è veramente importantissima perché altrimenti l'autoproduzione rischia di, se non è accompagnata dall'autoconsumo, rischia di scaricarsi sulle infrastrutture di rete richiedendone enormi, sbaglio? No, esatto, chiaramente, diciamo, come dire, le due cose hanno dei pro e dei contro, nel senso che fondamentalmente non sempre, soprattutto la produzione da fonti rinnovabili, non sempre, diciamo, la fonte è situata laddove c'è il sito di consumo, però chiaramente l'incentivare esclusivamente la produzione da fonti rinnovabili può creare delle bis economie dovute al fatto senza avere un'attenzione all'altra. Incentivare l'autoconsumo favorisce la localizzazione laddove possibile, e questo, diciamo, negli ultimi anni con il fotovoltaico è più facilmente fattibile, chiaramente con l'eolico, con l'idroelettrico è un discorso leggermente diverso, però fondamentalmente si va di fatto a evitare uno sviluppo ulteriore della rete elettrica. Quali sono le configurazioni realizzabili e che consentono la valorizzazione implicita o esplicita dell'autoconsumo? Sono i sistemi semplici di produzione e consumo, i sistemi di distribuzione chiusi, che tutti quanti conoscete, che però alla luce dei nuovi decreti legislativi subiranno delle modifiche, e poi abbiamo i sistemi di autoconsumo individuale da fonti rinnovabili a distanza, fatemeli chiamare così, poi capiremo perché stiamo ancora cercando una definizione che renda bene l'idea del concetto, i gruppi di autoconsumatori o i clienti attivi che agiscono collettivamente, e le comunità energetiche. Queste tre fattispecie sono state introdotte dalle due direttive europee, la direttiva mercati e la direttiva red2, sono state completamente recepite in Italia dei decreti legislativi, però per i quali comunque l'attuazione deve essere completata, e per quanto riguarda l'autoconsumatore individuale o collettivo da fonti rinnovabili e le comunità energetiche rinnovabili, c'è stata una prima attuazione, diciamo, seppur transitoria, da parte dell'autorità per effetto, diciamo, di un primo recepimento che era stato fatto due anni fa, fondamentalmente, tramite un decrito legge. Io cercherò di esaminare un po' velocemente le varie fattispecie, poi lasciando il focus più nel dettaglio per quanto riguarda le comunità energetiche ai colleghi che seguiranno il mio intervento. Parliamo per tutta l'altra ora, certo. Quindi diciamo, parlando anche con gli organizzatori, era importante focalizzare un po' di più su questi aspetti che in realtà sono non trattati nel proseguio. Allora, per quanto riguarda i sistemi semplici di produzione e consumo, sono sistemi, ricorderete tutti, i SEO, i Seseo, gli ASAP, cioè tante sigle che vanno a individuare tutta una serie di fattispecie di autoconsumo fattibili. Queste fattispecie, fondamentalmente, possono essere semplificatoriamente, diciamo, raffigurate in questo modo, cioè è un sito di produzione, un sito di consumo, collegati da un collegamento privato che può essere realizzato, diciamo, appunto, un collegamento privato che costituiscono una black box rispetto alla quale praticamente lo scambio di energia con la rete è visto al punto di connessione di questa configurazione. E quindi fondamentalmente il vantaggio di questa tipologia di configurazione è il fatto che tutta l'energia elettrica prodotta è consumata in sito e quindi non passa sulla rete pubblica e incentivata nel senso che ha il beneficio di non pagare gli oneri generali di sistema né le componenti relative ai costi di trasmissione e distribuzione. Quindi, di fatto, è come se noi avessimo una black box con un sistema all'interno del quale il sistema elettrico non vede cosa succede, al netto eventualmente della produzione sia da fonti rinnovabili che, qualora fosse incentivata, ha necessità di essere misurata per ottenere gli eventuali incentivi del GSE e dall'altro l'unica cosa che vede il sistema è il programma di emissione dell'impianto nella rete pubblica, quindi non la parte che viene prodotta e autoconsumata in rete e il programma di prelievo del cliente finale che differisce dal programma di consumo in quanto la differenza è relativa all'energia elettrica prodotta e consumata in sito. Ritornando un attimo indietro, come dicevo, le configurazioni sono essenzialmente riconducibili in uno schema uno a uno, un cliente finale che sia un'unica unità di consumo o più unità di consumo laddove ci sono dei soggetti giuridici oppure dei gruppi societari e una o più unità di produzione. Prima del decreto legislativo 210-2021 esistevano numerose definizioni che, come dicevo, individuavano le varie specie fattibili, adesso col decreto legislativo diciamo 210-21 viene introdotta un'unica definizione di sistema semplice di produzione e consumo che di fatto ricomprende tutte le definizioni attualmente esistenti. Quindi fondamentalmente il sistema semplice di produzione e consumo o SSPC è un sistema in cui una linea elettrica collega una o più unità di produzione gestite in qualità di produttore dalla medesima persona fisica o giuridica ad una o più unità di consumo e in questo caso l'unità di consumo è unica se il cliente finale è una persona fisica e una pluralità di unità di consumo se il cliente finale è una persona giuridica o un gruppo societario. Andando avanti diciamo che rientrano in questa configurazione anche alcune fattispecie introdotte dal decreto legislativo 199 e anche dal 210. In particolare il cliente attivo unico è l'autoconsumatore di energie rinnovabili in sito. Queste sono particolari fattispecie definite dalla direttiva che tutto sommato rientrano diciamo nella definizione più generale relativa al sistema semplice di produzione e consumo. Come dicevo qui l'incentivo è dato all'autoconsumo indipendentemente che la produzione sia fatta da fonti rinnovabili cioè l'incentivo diciamo il beneficio che viene già dato al sistema in termini di mancato sviluppo di rete e diciamo anche di perdite di rete e indipendente dal fatto che la generazione sia da fonti rinnovabili da cogenerazione ad alto rendimento oppure da impianti diciamo alimentati da qualsiasi altra tipologia di fonte anche fossile. Altra parte di specie già esistente sono i sistemi di distribuzione chiusi. Anche anche in questo caso diciamo la caratteristica importante di questi sistemi è il fatto che vado veloce così qui non abbiamo più una black box ma il sistema è aperto di fatto la rete privata viene equiparata a una rete di distribuzione a tutti gli effetti il sistema elettrico vede tutti i clienti presenti all'interno della rete tant'è che ognuno di essi è dotato di un proprio pod e quindi può approvvigionarsi di energia elettrica in relazione all'energia effettivamente prelevata dalla rete privata e non da quella pubblica il vantaggio di questi quindi abbiamo un dispacciamento che entra il vantaggio diciamo di questi sistemi e che comunque diciamo gli oneri generali di sistema per previsione normativa vengono pagati in relazione all'energia elettrica che viene scambiata con la rete pubblica quindi se da un lato il singolo cliente presenta cioè si approvvigiona di energia elettrica dal mercato per tutta l'energia elettrica che preleva dai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dall'altro invece per quanto riguarda il pagamento degli oneri generali di sistema gli oneri generali vengono pagati in funzione dell'energia elettrica che viene prelevata dalla rete pubblica e quindi tutta la quota parte di energia elettrica prodotta e consumata all'interno della Riu viene esonerata dal pagamento degli oneri fa vedere quello che succede in quel punto là sopra esatto il punto di interconnessione fondamentalmente anche qui diciamo c'è una novità legislativa introdotta dai decreti legislativi 210 del 2021 e le novità sono i due tipi in primo luogo una sonatoria per quanto riguarda i sistemi di distribuzione chiusi già realizzati alla data del 15 agosto del 2009 ma che non sono diciamo non sono rientrati non si sono iscritti nel registro previsto dall'autorità quindi questo è il primo punto quindi quei soggetti che avevano perso il diritto di continuare a essere gestiti come sistemi di distribuzione chiusi possono rinnovare quel diritto presentando un'istanza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto quindi siamo intorno al 25 giugno di quest'anno fondamentalmente l'altra possibilità è quella di poter realizzare anche nuovi sistemi di distribuzione chiusi il primo recepimento della direttiva che introduceva i sistemi di distribuzione chiusi prevedeva in Italia che questi fossero i sistemi esistenti alla data del 15 agosto 2009 quindi non se ne potevano fare di nuovi adesso viene annoverata la possibilità di realizzare nuovi sistemi di distribuzione chiusi questi però sono considerati a tutti gli effetti delle reti di distribuzione pubblica quindi i nuovi sistemi di distribuzione chiusi hanno diciamo lo svantaggio rispetto ai vecchi di pagare gli oneri generali di sistema anche sull'energia elettrica che viene prodotta e consumata all'interno della Rio quindi fondamentalmente c'è un gestore che gestisce in subconcessione questa rete ma nei fatti diciamo i clienti di questa rete non hanno alcun beneficio in relazione agli oneri generali di sistema altro elemento importante è che si è data la possibilità ai vecchi SDC di poter estendere il perimetro ma nel momento in cui l'ambito territoriale viene esteso si viene a ricadere nei nuovi SDC e quindi fondamentalmente si perde il diritto di beneficiare delle zone o degli oneri generali sull'autoconsumo nuove definizioni sono quelle introdotte relative al cosiddetto autoconsumo esteso vado veloce qual è la grande novità dell'autoconsumo esteso è la possibilità di poter diciamo godere dei benefici dell'autoconsumo da un punto di vista economico anche se il trasferimento di energia elettrica dei siti di produzione ai siti di consumo avviene non utilizzando diciamo reti privati o collegamenti diretti ma utilizzando le reti pubbliche la grossa differenza tra l'autoconsumo esteso e l'autoconsumo visto diciamo nelle caratteristiche precedenti al netto dei nuovi STC è il fatto che però nell'autoconsumo esteso gli oneri generali di sistema vengono pagati su tutta l'energia elettrica che viene prelevata dalla rete pubblica quindi seppure avendo due utilizzando la rete pubblica per trasferire energia elettrica da un sito di consumo da un sito di produzione a un sito di consumo di fatto quell'energia elettrica è comunque gravata dal pagamento degli oneri generali di sistema mentre viene sgravata a seconda delle varie configurazioni in particolare per l'autoconsumo collettivo in edifici o in condomini viene sgravata dai costi di trasmissione e distribuzione e laddove produzione e emissione siano allo stesso livello di tensione anche nei condomini anche dalle perdite di rite mentre per quanto riguarda le comunità energetiche come dicevo c'è sempre questo modello virtuale di gestione ma fondamentalmente le perdite di rite non vengono riconosciute mentre vengono riconosciuti i costi i mancati sviluppi di rite dovuti all'energia elettrica che viene condivisa allo stesso livello di tensione quindi sotto la stessa cabina primaria quindi abbiamo visto che fondamentalmente i decreti introducono queste tre tipologie di autoconsumatori che si possono distinguere in autoconsumo individuale a distanza autoconsumo collettivo fondamentalmente e comunità energetiche abbiamo fatto noi un primo recepimento di queste norme in relazione alle fonti rinnovabili con la delibera 318 del 2020 non vado troppo nei dettagli tanto ci sarà il collega del GSE che poi espliciterà meglio quella che è la normativa in materia di comunità energetiche attualmente applicabile in futuro noi dovremo procedere a recepire nel dettaglio tutti questi diciamo tutte le novità introdotte dai decreti legislativi l'autorità su questo si è già espressa individuando una tempistica per l'approvazione dei vari provvedimenti fondamentalmente la chiusura del procedimento per quanto riguarda diciamo il recepimento dei concetti relativi all'autoconsumo esteso e alle modifiche del TISP e del TISD avverrà entro il 30 settembre e prima dell'estate probabilmente già entro fine maggio diciamo dovrebbe essere pubblicato il primo documento di consultazione mentre la delibera conseguente al documento di consultazione vorremmo farla non appena avremo pronto anche il decretto da parte del ministero relativo all'incentivazione dell'autoconsumo diciamo svolto all'interno degli autoconsumatori collettivi e nelle comunità energetiche dentro l'anno si chiarisce si chiarisce il quadro penso prima di dentro l'anno noi abbiamo posto come termine fine settembre credo che riusciremo a rispettare questo termine grazie grazie Ciaccia io passo la parola a Sgrogli Fieldfisher che ci introduce al tema della fiscalità sui prodotti energetici grazie buonasera a tutti il tema della fiscalità è un tema delicato già abbiamo visto stamattina come tanti interventi che partivano da altri presupposti da altre tematiche sono andate poi a focalizzarsi anche su aspetti di fiscalità io cercherò di dare una panorama di quelli che sono i criteri di tassazione dei prodotti energetici senza andare a fondo più di tanto lasciando poi la parola al direttore Bellosi che interverrà anche sul tema della leva fiscale nell'ambito della transizione energetica sarò molto breve anche perché mi rendo conto che parlare troppo di fisco dopo pranzo potrebbe gerare dei problemi di digestione dunque discutendo di fiscalità dei prodotti energetici indubbiamente dobbiamo iniziare a parlare di accisa cos'è l'accisa il termine accisa oggi e soprattutto negli ultimi mesi è diventato un po' patrimonio comune fino a poco tempo fa era un termine pressoché sconosciuto se non noto agli addetti ai lavori diciamo che il termine accisa è stato introdotto come concetto nel nel lontano 1993 con il decreto 331 attraverso il quale vennero implementate le direttive comunitarie che riordinavano il sistema delle accise a seguito dell'abbattimento delle frontiere interne della comunità europea quindi in buona sostanza la definizione di accisa non è altro che la vecchia definizione di imposta di consumo dei prodotti energetici noto nel nostro sistema tributario da qui si arrivò al testo unico delle accise che è quello oggi in vigore sebbene abbia subito numerose modifiche perché già nel 1993 il sistema di tassazione dei prodotti energetici era abbastanza frammentato e peraltro legato a provvedimenti che andavano molto indietro nel tempo quindi attraverso il testo unico si è cercato di dare un'organicità a tutta la materia tributaria del settore accendiamo alle direttive comunitarie oggi il sistema di tassazione dei prodotti energetici è contenuto ancora come riferimento anche qui se ci sono stati degli interventi modifiche successivi la direttiva comunitaria 2003 96 perché non dimentichiamo che tutto questo settore comunque ha una matrice legislativa di origine comunitaria sebbene si affermi ed è così che comunque il sistema che gestisce la tassazione delle accise a livello comunitario sia un sistema armonizzato in realtà non è proprio così perché cosa è armonizzato sono le regole di applicazione e di funzionamento e di applicazione delle imposte ma per quanto riguarda i livelli di tassazione ciascuno Stato va avanti per la propria strada avendo però riguardo a rispettare il livello minimo che è imposto dalla direttiva comunitaria quindi questo per dire che a livello di meccanismi applicativi tutti i paesi dell'unione europea si muovono sulla stessa sulla stessa direttrice così non è dal punto di vista del livello della tassazione la particolarità del sistema di tassazione dei prodotti energetici quindi dell'applicazione della CISA è la tassazione per quantità questo significa che il prodotto viene tassato per la quantità ovviamente immessa in consumo indipendentemente da quello che è il prezzo e di qui poi faremo delle considerazioni successivamente per quello che sta accadendo nei nostri giorni quindi in buona sostanza a parità di quantità la CISA rimane mutata indipendentemente dal prezzo di vendita i prodotti energetici ovviamente appunto essendo beni oggetto di transazioni commerciali sono soggetti ad IVA è qui che si manifesta l'impatto del modifica i prezzi di vendita dei prodotti perché come immagino tutti sappiate l'IVA è un'imposta che viene applicata in base al valore peraltro non dimentichiamoci che anche le accise in quanto componenti del valore di transazione diventano componenti del prezzo e quindi a loro volta sono soggetti questo è un tema questo è un tema che tante volte è stato dibattuto e fa storcere il naso a tanti però purtroppo questo è il meccanismo proprio dell'IVA che anche qui non è un'imposta di casa nostra ma è un'imposta che comunque viene applicata allo stesso modo in giro per l'Europa quindi questo chiamiamolo così distorsione è presente in tutti in tutti i paesi quindi il tema della variazione dei prezzi che oggi è tanto nota e posta sul tavolo soprattutto degli ambienti politici che sono stati chiamati e sollecitati da più parti a porre un rimedio attraverso l'interesse intervento sulle aliquote delle accise di fatto ha voluto compensare un po' quello che era l'impatto e l'incremento dei prezzi che si era andato o meglio l'incremento dell'IVA che si era andato a determinare sulla base della variazione del prezzo quindi in buona sostanza se i prezzi oggi sono così elevati non è colpa delle accise mettiamola così portavano a 10 diciamo di imposte portavano a casa 10 erano arrivati a 20 sono tornati a 10 ma applicando però un meccanismo chiamiamolo così di salvaguardia che non è che ci siamo inventati adesso perché già la legge di bilancio del 2008 che in parte è stata utilizzata per compensare andare a coprire andare a copertura finanziaria alla minori entrate in termini di accise prevedeva un intervento di questo tipo a tutela dei consumatori naturalmente c'è tutto il tema tutela dei consumatori lasciamo fuori le imprese come si diceva stamattina che dal canto loro sono stati chiamati a intervenire per andare poi a chiudere il quadro della copertura finanziaria con il tassazione del sovra profitti che prima erano 10 adesso 20 saranno 25 il 25% quindi una misura decisamente maggiore con questo cosa cosa voglio dire che comunque il tema della fiscalità è un tema molto delicato peraltro ormai è noto a tutti che nella composizione del prezzo dei carburanti tra CIS e IVA andiamo a scontare più del 50% del prezzo che paghiamo alla pompa quindi un tema molto delicato e quindi diventa delicato anche affrontare come vedremo poi ci dirà anche il dottor Bellosi il tema della leva fiscale per favorire la transizione energetica perché oltre alla sostenibilità ambientale si pone un tema di sostenibilità finanziaria e quindi la domanda che lascio aperta e poi vedremo cosa succederà perché non è tanto un problema a mio avviso di breve periodo ma di medio lungo chi andrà a finanziare la transizione laddove questa transizione sfrutti anche come di fatto già in parte adesso la leva fiscale quindi un'agevolazione fiscale nell'accesso a determinati meccanismi di produzione energetica quindi questo comunque è un tema che lascio alle riflessioni della platea e poi vedremo sicuramente ci sarà tempo in futuro per tornare grazie 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 sgroi allora continuiamo a parlare di tassazione di prodotti energetici e di come appunto questa possa essere o meno utilizzata come leva come preferisce slide raggiungo la sua postazione appunto e come può essere utilizzata come leva per la transizione l'impiego di fonti rinnovabili allora si è sempre parlato tra l'altro di fiscalità green o comunque del fatto che il tema della fiscalità potesse essere addirittura l'asse portante in qualche caso della transizione energetica facendo un ragionamento appunto si tassa quello che è indesiderabile si detassa quello che è desiderabile e naturalmente gli si offre così un vantaggio ebbene come stanno andando le cose per il momento non bene girando le slide tecnicamente no vediamo se non so se è qualcosa che è troppo forse no dovrebbe essere la prima beh l'argomento che vado ad introdurre sicuramente sicuramente un argomento non nuovo ovvero quello di usare la leva fiscale appunto per favorire la transizione a fonti energetiche rinnovabili ma anche opzioni di autoproduzione autoconsumo perché il tema è anche quello di forme di produzione di consumo di energia in forma collettiva e auspicabilmente mediante fonti rinnovabili questo dovrebbe essere diciamo l'obiettivo a cui tendere non è un tema nuovo come dicevo perché la direttiva quadro insomma la 96 del 2003 già in già vent'anni fa si poneva diciamo questo tipo di obiettivo chiaramente eravamo in un momento anche di entusiasmo ecco per obiettivi di riduzione di inquinamento ambientale di passaggio ad energie rinnovabili eccetera e per l'appunto la direttiva poneva insomma ecco in maniera chiara la possibilità da parte degli stati membri di poter applicare naturalmente sotto controllo fiscale esenzione o riduzione di imposta per l'appunto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili come sono descritte appunto nell'articolo nell'articolo 15 il tema appunto è che sicuramente questo tipo di previsione ha trovato una declinazione nel testo unico delle accise già citato decreto legislativo 504 del 95 ma chiaramente si tratta di previsioni insomma poi lo vedremo anche in maniera più dettagliata che hanno un impatto non risolutorio diciamolo diciamolo subito e come vediamo insomma quello che da sottolineare che è prevista una riduzione appunto del 30% sull'aliquote applicabile ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica consumata da chi la produce e quindi un incentivo all'autoconsumo e un incentivo anche alla cogenerazione di cioè la generazione combinata di energia elettrica e colore utile in quanto in quel caso lì si prevedono appunto delle aliquote convenzionali che sono più vantaggiose rispetto alle aliquote ordinarie quindi ecco il testo unico introduceva questi due elementi a favore dell'autoconsumo dell'energia elettrica prodotta e della produzione combinata di energia elettrica e calore allo stessa maniera ovviamente veniva agevolato il gas naturale utilizzato per teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione e ovviamente non venivano sottoposte da CISA le miscele gassose di origine biologica destinate ad usi propri vado velocemente questo ovviamente l'ho sempre considerato più uno spot pubblicitario che altro in quanto insomma ecco prevedere che un agricoltore utilizzi oli vegetali per poter alimentare il proprio parco macchine aziendale mi è sempre sembrata una cosa abbastanza insomma più più folcloristica che non di realizzazione effettiva anche per i costi insomma degli oli vegetali e veniamo poi alla produzione vera e propria di energia elettrica da fonti rinnovabili naturalmente laddove l'impianto no perché un piccolo dettaglio il biometano invece che potrebbe essere utilizzato in campo agricolo uno se lo produce si fa un trattore diciamo si può quello invece non si può utilizzare non credo che ci sia questa possibilità senza incorrere no non registro neanche reati fiscali un grande interesse commerciale su questo punto ecco perlomeno per quella l'esperienza fino adesso però nulla esclude ovviamente che possa aprire non ci può essere perché credo che sia illegale questo che voglio capire cioè in Inghilterra uno può prendere l'olio anche al supermercato produrselo lui fare le sterificazioni metterlo nell'automobile è un problema suo magari si come dire si rovina l'auto è diventato un problema suo in Italia una roba del genere assolutamente c'è stato ricordo qualche anno fa l'utilizzo dell'olio di Colts qualcuno lo faceva illegalmente poi non so che effetto abbia sui motori perché un'azienda agricola che ha macchine che utilizzano combustibili non dovrebbe desiderarlo è che non può farlo per forza non c'è un mercato se lo fanno credo che la previsione comunitaria lo prevedeva insomma tornando alla produzione di energia elettrica la duplice previsione per quanto riguarda la produzione da fonti rinnovabili impianti azionati con potenza inferiore a 20 kilowatt ovviamente sono fuori campo accise quindi non hanno diciamo obblighi fiscali particolari mentre per gli impianti superiori a 20 kilowatt nel caso di diciamo autoproduzione quindi autoconsumo in luoghi diversi dall'abitazione è prevista l'esenzione non siamo fuori campo accise ma siamo in un ambito di esenzione di accisa naturalmente non si parla di usi di usi civili mentre nel primo caso sì è il classico pannello fotovoltaico questo è brevemente diciamo quello che caratterizza dal punto di vista fiscale il consumo di energia elettrica e parte anche la produzione a seconda che si tratti di impianti domestici o di impianti industriali ovviamente la liquota sull'energia elettrica per impianti domestici è maggiore anche se c'è diciamo una prima esenzione mentre per quanto riguarda gli usi industriali abbiamo una liquota inferiore differenziata a seconda ovviamente degli scaglioni di consumo e vediamo un po' di numeri che magari ci danno anche un'idea di come si è evoluto il ricorso agli impianti da fonti rinnovabili questo ovviamente rappresenta l'evoluzione del numero di impianti soggetti a denuncia quelli che non sono soggetti ovviamente sfuggono e vediamo insomma negli ultimi dieci anni si è avuto un incremento abbastanza progressivo dove evidentemente il fotovoltaico la fa la fa da padrona denuncia nel senso che vengono dichiarati non nel senso che dicevano non sono fuori campo diciamo in questo senso qui non che sono ovviamente non che c'è una causa in corso assolutamente no denuncia dichiarazione e questo per quanto riguarda il 2022 distinzione a seconda del tipo di fonte rinnovabile laddove ovviamente si passa dal numero di impianti alla potenza impegnata evidentemente la torta risulta più distribuita facilmente comprensibile dove ovviamente sia la cogenerazione che l'idroelettrico pesano ovviamente più del fotovoltaico e per quanto riguarda invece l'autoconsumo ha anche interessante diciamo questo tipo di analisi anche in questo caso ovviamente la cogenerazione dell'idroelettrico ancorché il numero di impianti sia effettivamente molto più basso rispetto ai fotovoltaici però laddove si parli di autoconsumo ovviamente rientrano nella loro diciamo incidenza maggiore ma facilmente comprensibile e mi ricollego con l'intervento del collega di Arera perché diciamo ecco si parlava di opzioni collettive di produzione e consumo l'agenzia Dogane Monopoli è intervenuta ormai quasi dieci anni fa diciamo otto anni fa proprio per diciamo mettere un po' di ordine tra virgolette dal punto di vista fiscale alla figura del sistema efficiente di utenza disciplinato ovviamente da da Arera e io ovviamente non sto a passare in rassegna tutte le casistiche possibili però il messaggio è che nel momento in cui produttore e consumatore sono lo stesso soggetto il sistema può funzionare anche dal punto di vista fiscale nel momento in cui produttore e cliente sono soggetti distinti come questa figura prevede dal punto di vista fiscale si entra diciamo in una non giungla diciamo di adempimenti burocratico fiscali ma i soggetti che sono coinvolti alla fine ricadono nelle stesse quasi diciamo oneri burocratico fiscali ripeto che avrebbero anche se non facessero parte ecco di un di un sistema di un sistema di questo tipo e se volessimo per chiudere abbiamo provato a immaginare noi diciamo burocrati della periferia perché io rappresento una direzione interregionale ancorché importante Veneto Friuli Venezia Giulia però diciamo ecco le norme le circolari vengono fatte a livello centrale noi ci troviamo ad applicarle e io provocatoriamente ho chiesto al mio responsabile appunto accisa di immaginare una comunità energetica poi magari il collega di Arera avrà le sue perplessità però so anche per avere un minimo di visibilità di quello che potrebbe essere ecco abbiamo previsto insomma un impianto da fonti rinnovabili con più ovviamente di 20 kilowatt c'è un impianto eolico un fotovoltaico un'abitazione un condominio che potrebbe sfruttare sicuramente pannelli fotovoltaici ma anche un impianto di cogenerazione per riscaldamento e perché no un piccolo energivoro che magari potrebbe sfruttare i picchi di energia prodotti dagli altri ecco dal punto di vista fiscale perché io mi limito a quello che è il punto di vista fiscale insomma ahimè c'è molto da lavorare cioè ancora la comunità energetica come soggetto anche che da un punto di vista giuridico potrebbero aggruppare soggetti che hanno magari interesse a mettere in comune produzione e consumo nasce per quello però a tutt'oggi gli adempimenti fiscali sono praticamente analoghi a quelli che noi abbiamo anche laddove non immaginassimo questi soggetti nell'ambito di una comunità energetica in prospettiva sono ben capito anche poi differenziati appunto caso per caso quindi cosa ci vorrebbe ci vorrebbe come dire una policy unica per tutti i soggetti io ovviamente non sono un esperto di comunità energetica mi rimetto ovviamente a chi ne sa più di me ma credo che l'obiettivo della comunità energetica sia quello di mettere in comune dell'energia no e a un certo punto anche anche beneficiarne dal punto di vista fiscale questo forse dovrebbe essere reso possibile aprendo una riflessione ecco perché altrimenti dal punto di vista fiscale insomma le semplificazioni a tutt'oggi ecco ma quindi è un problema di pressione fiscale è un problema di complessità fiscale è un problema anche di scelte normative ovviamente a tutt'oggi no no voglio capire secondo la sua opinione secondo la sua opinione mettere mano a questo problema che cosa vuol dire vuol dire toglierle ridurle semplicemente vuol dire uniformarle per tutti i soggetti che ci sono dentro creare una black box come abbiamo detto in cui all'interno di questa black box tutti consumano quello che producono e se avanza qualcosa vediamo però da questo punto di vista avremo un forte incentivo fiscale se uno paga sulla stessa energia autoprodotta prodotte consumate all'interno dell'energy community non ha senso che uno paghi un'accisa l'altro ne paghi un'altra io credo questa è la situazione non lo dovrei dire io che sono l'esattore delle imposte riallacciandomi anche a quello che ha detto prima ma anche per l'esattore è più facile se le tosse sono teniamo sempre sullo sfondo come diceva dottor Groi se non sbaglio che il gettito accise è la prima fonte di reddito dal punto di vista dell'agenzia o magari solo di semplificare lo schema sicuramente una semplificazione a mio avviso potrebbe essere la sfida di un ragionamento a livello normativo si costruisce il meccanismo di funzionamento e poi andare a capire come questo moltiplicato per n poi va a incidere sul gettito cosa significa numericamente perché banalmente io sono un fiscalista quindi per mia natura sono portato a fare dei paralleli il gruppo IVA per esempio per chi conosce il gruppo IVA è individuato come un unico soggetto fiscale all'interno dei quali le posizioni debito-credito sono compensabili qui di fatto per come oggi assolutamente no in futuro potremmo pensare a un meccanismo del genere certo poi c'è il tema delle aliquote perché il privato funziona in un modo l'industria in un altro anche a livello di aliquote IVA è diverso quindi è abbastanza complesso sotto il profilo anche della struttura legislativa all'interno nel quale bisogna darla a calare io so che abbiamo un collegamento in remoto facciamo il successivo va bene va bene ok allora grazie penso che ci possiamo fermare fermare qua perché il quadro introduttivo comunque ci sia grazie allora allora io direi qui di raggiungermi a questo punto dottor Castorina sempre l'avvocato eh sì certo cioè sei tu Giorgio Castorina mi ricordavo il cognome sì abbiamo in collegamento dottor Petronio funzione promozione assistenza alle imprese di GSE quindi gestore dei servizi energetici vediamo se riusciamo ad averlo a schermo intanto chiedo di raggiungerci al dottor invece Cantarella che è responsabile delle comunità energetiche di Assoesco e anche al dottor Paolo Dermo il segretario generale di WEC Italia World Energy Council benvenuto ecco qua vediamo anche vediamo anche Petronio perfetto benvenuto anche a lei non so se mi sentite buon poveriggio molto conosciuto allora così da scaletta io partirei proprio da partirei proprio dal dal GSE ricordavo ricordavo anche questa mattina titolo del suo intervento comunità energetiche rinnovabili un'opportunità di sviluppo del territorio ecco in questo momento eccolo qua sì perché sta condividendo credo che ci siamo già trovati Petronio correggimi mi si staglio ci siamo già trovati in una situazione analoga noi certo esattamente e infatti ricordo esattamente un lungo lavoro diciamo da parte di fatto delle camere di commercio di buona parte d'Italia per cercare di far presente ai propri associati che in queste energy community c'è del lavoro da fare insomma sostanzialmente e qui veniamo al punto ecco dove si vuole mettere l'accento su un aspetto con l'intervento di Petronio cioè il fatto che le comunità energetiche rinnovabili avendo anche proprio una loro dimensione geografica precisa ricordiamoci che per il momento da norma si può stare all'interno della stessa energy community se si è connessi alla stessa cabina primaria cioè una di quelle che si incontrano con insomma una di quelle cabine uno di quei luoghi in cui l'energia elettrica ad alta tensione viene trasformata in media tensione distribuita a centinaia di cabine di cabine secondarie quindi sta di fatto che uno non può è vero che ci può essere la distanza ma uno non è che può produrre l'energia in Puglia distribuirla in Emilia Romagna ed essere nella stessa energy community bisogna comunque stare sotto la stessa cabina primaria per darvi un'idea una città come Milano a qualche cabina primaria ecco per dare un'idea allora Petronio opportunità di sviluppo per il territorio perché prego grazie grazie dottor Melis ringrazio l'organizzazione per avermi invitato mi chiedo scusa sindora ma dovrò sganciarmi per un ulteriore appuntamento alle 16 quindi non starò fino alla fine dei lavori intanto vi ringrazio per l'attenzione e allora come ben introdotto il dottor Melis allora io vi illustrerò questo pomeriggio un'introduzione con un contesto normativo quali sono le attuali fattispecie per le comunità e per i gruppi quindi quelle che sono appunto le fattispecie per la condivisione dell'energia e poi andremo nello specifico di alcune dei contributi previsti alcuni chiarimenti e novità e appunto i benefici che ne deriveranno del supporto del GSE andando a contestualizzare per il percorso di transizione è importante che sia rivolto al 2050 ma ovviamente il prossimo obiettivo al 2030 è quello delineato dal PNIEC e questo implica necessariamente un rafforzamento della consapevolezza del ruolo attivo del consumatore quindi quello che è da tenere bene in considerazione è il cambio di paradigma ovvero consumare meno quindi andare a efficientare spendere meglio quindi avere comportamenti più intelligenti e andare a produrre energia quindi entrare appunto in quel modello di economia circolare che prevede che ciascuno di noi o ciascuna impresa o ciascun soggetto vada a diventare un prosumer quindi anche con l'autoproduzione il contesto normativo l'Italia ha introdotto in maniera anticipata la direttiva RET2 con il cosiddetto mille prove di L162 del 2019 come anticipato dai relatori in precedenza si sono susseguiti dei provvedimenti che hanno visto la delitto dell'ERERA 318 2020 andare a disciplinare quelle che sono le modalità e le regolazioni economiche del servizio il DM 16 settembre 2020 ha individuato la tariffa incentivante quindi anche le condizioni di cumulabilità una prima versione delle regole tecniche del GSE che sono andate a dettagliare in maniera corposa quelle che sono poi tutti i meccanismi e tutte le fattispecie delle configurazioni possibili a novembre del 2021 è arrivato il recepimento sia delle RET2 sia della direttiva mercati da lì in poi si è consolidato quello che è fino a qui un percorso di fase transitoria e ha dato l'orizzonte temporale per raggiungere la fase a regime e questo lo vedremo meglio nelle successive in ogni caso il recepimento delle direttive è stato seguito da un nostro aggiornamento delle regole tecniche quindi con un aggiornamento delle caratteristiche dei partecipanti e alcune precisazioni relativamente ad esempio all'autorità locali il periodo d'applicazione e alcuni dettagli tecnici ma andiamo a vedere quello che è l'attuale sistema e poi andremo a vedere anche come evolverà l'attuale sistema come è composto da questi due fatti specie ovvero la condivisione dell'energia è prevista o tramite comunità di energie rindomabili attualmente previsto sotto la cabina elettrica secondaria e oppure i gruppi di autoconsumo il gruppo di autoconsumo fondamentalmente è contraddistinto dall'essere individuato con le utenze sotto lo stesso edificio la comunità energetica che cos'è è un insieme di almeno due autoconsumatori e almeno un impianto a fonti rindomabili collegati sotto la stessa porzione di rete a bassa tensione e attualmente in questo periodo che ancora vede il regime transitorio e al regime saremo a breve adesso è previsto ancora sotto la medesima cabina secondaria quindi la trasformazione da media a bassa quindi l'ambito territoriale attuale è relativamente più piccolo rispetto a quello che ha detto in introduzione Melis ma a tendere tra pochi mesi sarà ampliato quali impianti possono partecipare possono partecipare impianti a fonti rinnovabili quindi non solo il fotovoltaico nuove potenziate a partire dal primo marzo 2020 e con potenza massima del singolo impianto pari a 200 kW la CER è un soggetto giuridico quindi deve essere costituito questo soggetto e può essere aperta a tutti il 199 ha introdotto questa ulteriore precisazione di andare a definire i soggetti che possono avere i poteri di controllo quindi è aperta a tutti ma possono avere poteri di controllo persone fisiche piccole e medie imprese comunque la cui attività non costituisca la cui attività relativa all'energia elettrica non costituisca l'attività principale e autorità locali enti locali meglio dettagliate con amministrazione comunale enti ricerca formazione terzo settore e quant'altro quindi è stato recepito questa parte del 199 che andava a ampliare i soggetti che possono avere poteri di controllo all'interno della comunità il gruppo che cos'è invece? è un insieme di almeno due autoconsumatori e un impianto che si trovano nello stesso edificio o condominio anche in questo caso gli impianti che possono partecipare sono gli stessi quindi sempre attualmente con potenza massima di 200 kilowatt e i vincoli sono che i titolari dell'utenza devono essere all'interno all'edificio o al condominio e lo stesso impianto anche nello stesso edificio altra innovazione che abbiamo introdotto a seguito del 199 è il concetto di condominio infatti a seguito anche della consultazione che abbiamo effettuato e per condominio si intende anche quello che investe nell'ambito commerciale e industriale quindi poli logistici centri commerciali distretti industriali o anche supercondomini gestiti da consorsi quindi comparti comuni quali sono alcune specifiche tecniche ovviamente il concetto di energia condivisa ho preparato una slide semplicissima dopo per andare a spiegarlo meglio in ogni caso l'energia condivisa è il minimo orario tra l'energia elettrica messa in rete prelevata dagli impianti di produzione e clienti finali facenti parte della configurazione o che rilevano per la configurazione e gli incentivi che vediamo in queste tabelle sono valide per 20 anni e l'energia elettrica messa in rete può accedere al ritiro dedicato oppure alla vendita sul mercato elettrico per i gruppi si ha una tariffa di 100 euro per megawattora per le comunità 110 euro per megawattora a cui si vanno a sommare i corrispettivi unitari che vediamo definiti dalla delibera e dalla rera pari circa andiamo a dare una semplificazione intorno alle 8 9 o 10 euro quindi andiamo su questo su questo range quindi l'incentivo è così definito dalle nostre esperienze ho trovato una certa fatica a capire che cos'è l'energia condivisa ho preparato una slide per dare l'indicazione estremamente semplice di che cosa possa intendersi l'esempio prevede tre utenze di cui una connessa direttamente all'impianto abbiamo un impianto di produzione che può essere come dicevo biogas eolico fotovoltaico etroelettrico con la produzione di 100 il primo utente preleva 20 direttamente dall'impianto essendo connesso e quindi ha un risparmio diretto in bolletta la differenza che viene messa in rete può essere condivisa e condivisa con questi due utenti che ad esempio in questo esempio prelevano 20 ciascuno quindi l'energia condivisa è pari a 40 megawattora cioè quanto prelevato contemporaneamente di altri due utenti mentre i 40 vengono incentivati mentre l'energia a ritiro dedicato al mercato libero è tutta quella messa in rete quindi quelli 80 questa slide è estremamente semplice ma vuole andare a dare appunto il segnale di quello che cos'è che sia il sistema virtuale di condivisione dell'energia non deve essere per forza connesso all'impianto alcuni chiarimenti sono stati chiesti spesso quindi abbiamo anche delle fac ma qui facciamo una breve carrellata su quelle che sono le domande mi sente? si domanda per la parte allora per la parte come ci ha appena spiegato autoconsumata da soggetti terzi diciamo facenti parte della stessa energy community o gruppo di autoconsumo in questo caso c'è diciamo la tariffa premium viene riconosciuta a 100-110 euro a megawattora esatto per la parte restante quindi quella che non viene né autoconsumata da chi produce né ceduta a altri soggetti della energy community ma ceduta alla rete come viene remunerata? allora no appunto questa è quella messa in rete l'immense in rete può essere anche consumata nello stesso contemporaneamente dagli utenti facenti parte della comunità quando c'è questa contemporaneità si ha l'energia condivisa perfetto mentre l'intero dell'immesso in rete al netto di gli altri venti gli altri venti quindi sì tutti gli 80 sono invece diciamo valorizzabili o con il servizio del gestore esercizi energetici al ritiro dedicato fondamentalmente oppure al mercato libero tramite un trader quindi comunque viene riconosciuta il costo di mercato dell'energia elettrica in quel momento a cui si somma per quella parte autoconsumata da soggetti della stessa energy community anche l'incentivo giusto? corretto esatto e l'utente sempre facendo 21 in questo mio semplice esempio va a risparmiare in bolletta naturalmente ciascuno di questi soggetti rimane cliente finale rimane cliente finale significa che ciascuno di essi mantiene il proprio fornitore di energia e se collegato direttamente all'impia naturalmente anche l'autoconsumo fisico allora andando avanti chi è il referente? il referente per la comunità è la comunità stessa quindi il soggetto giuridico è colui il quale si interfaccia con il GSE per percepire di incentivo questo servizio però di gestione supporto consulenza e lo svolgimento delle attività verso il GSE può essere conferito comunque a un soggetto terzo tramite rapporto di consulenza quindi una ESCO anche in quest'ambito ovviamente siamo una platea quindi le ESCO possono effettuare il ruolo di referente tramite un rapporto tra le parti il produttore può essere anche un soggetto terzo e non necessariamente coincide con il proprietario dell'impianto deve essere necessariamente l'intestatore firmatario della licenza d'afficina elettrica del regolamento d'esercizio e delle autorizzazioni per l'impianto durante l'arco di vita delle comunità è possibile apportare modifiche aggiungere punti di prelievo o anche impianti e naturalmente avere anche installazioni di accumulo il ritiro dedicato come appena detto quindi non mi dilungo è su tutta l'energia messa in rete e il soggetto giuridico deve essere un soggetto che è appunto autonomo e si riportano degli esempi che può essere appunto un'associazione un ente del terzo settore una cooperativa cooperativa benefit un consorzio ci sono diversi esempi che vengono portati questo anche su naturalmente suggerite indicazioni anche della testa dell'autorità della delibera quindi ci sono degli esempi che vengono indicati l'importante del GSE è che lo statuto della comunità contenga degli elementi essenziali perché il GSE non va a mettere diciamo andare a fare questione sul che tipo di soggetto è l'importante che ci siano questi elementi essenziali ovvero l'oggetto deve essere deve prevedere beneficio ambientale economici e piuttosto che finanziari i poteri di controllo devono essere in capo ai soggetti che abbiamo visto prima quindi piccole e medie imprese persone fisiche piuttosto che enti territoriali o autorità locali la partecipazione deve essere aperta a tutti e volontaria e deve esserci la possibilità per ciascuno di mantenere il diritto di cliente finale e lì per uscito l'uscita e deve essere indicato appunto il soggetto delegato al riparto dell'energia elettrica veniamo adesso a quelle che sono quello che ha indicato Melis nell'introduzione quelle che sono le differenze tra il regime transitorio che attualmente è quello vigente e la red 2 a regime quindi il 199 attualmente sono previsti nuovi impianti e potenziamenti entrati in esercizio dal primo marzo 2020 in poi e con potenza di 200 kilowatt per sicuro impianto a regime saranno previsti nuovi impianti potenziamenti per un massimo di 1 megawatt per sicuro impianto con la possibilità di far partecipare alla comunità il 30% della potenza da impianti esistenti scusate il perimetro prevede l'attuale sistema prevede appunto di essere sottesi alla stessa porzione di rete in bassa tensione quindi cabina secondaria questa si prevede essere stesa alla cabina primaria quindi una più ampia concentrazione le cabine secondarie per chi non è del mestiere sono quelle torrette che trovate come dire ovunque più o meno due piani dove dentro c'è una ogni cabina secondaria da 200 kilowatt per darvi un'idea un 200 kilowatt è qualcosa che può rifornire un piccolo condominio un bel condominio diciamo più che un piccolo condominio però quella è la dimensione una cabina primaria serve svariati comuni per darvi per darvi un'idea esatto quindi ci sarà piccoli comuni esatto una estensione territoriale migliaia di persone molte migliaia di persone in una cabina primaria comunque esatto i contributi previsti il regime attuale li abbiamo appena detti quindi fondamentalmente questo 110 euro a megawattora mentre a regime devono essere stabiliti con si prevede anche una remunerazione dell'energia elettrica in messa in rete su questo ciaccia dell'autorità che mi ha preceduto e ringrazio ampiamente dato l'orizzonte temporale per l'entrata in vigore del regime quindi si attende il provvedimento aerea il decreto del mite quindi su questo non mi ripeto su quanto già ha esattamente detto ciaccia sulla speranza di entro fine anno comunque ci sono insomma ci sono già è realistico che qualcuno oggi con questa prospettiva io per questo devo dire certo naturalmente la norma vigente è quella che ci hai raccontato tu ed è quella a sinistra non è quella che ho raccontato io che sta a destra però è ragionevolmente però quella è la direzione nella quale stiamo andando oggi qualcuno si mette a tirare in piedi una comunità un energy community con tutti questi vincoli la cabina secondaria eccetera eccetera se sa che tra qualche mese si entra in un altro regime io credo che finché non esce quella roba lì adesso si bloccherà tutto adesso non vorrei sbagliare ma finché non passiamo al nuovo regime c'è il rischio di blocco ci sono diverse iniziative che sono state sono state presentate sì sì ma poi le vediamo anche poi le vediamo anche appunto però insomma certo e allora i player più grandi stanno già ragionando nell'ottica del megawatt naturalmente significa anche iniziare a studiare tutte le situazioni le configurazioni anche tutte quelle che sono le attività propedeutiche quindi attualmente si stanno già attivando le iniziative però è ovvio che tutto quanto sia nel dettaglio è da attendere nella nei decreti nella delibera dell'autorità però le assicuro che tutte le grandi utility come anche l'associazione di categoria ci stanno veramente facendo tante tante domande sul anche il meccanismo al regime perché ovviamente si sta già ragionando su quello effettivamente mancano pochi mesi quindi si stanno già attivando delle iniziative parla di settembre potrebbe essere sarebbe almeno la speranza intorno la speranza si attesta al nostro settembre poi vedremo la realtà che cosa avrà da offrire come prego prego siamo grazie non so se ho sforato avrei se le chiederei di fermarsi qui se è possibile va benissimo sì sì assolutamente sì va bene grazie allora grazie Petronio Castorina Castorina profili giuridici e contrattuali delle comunità energetiche Fischer Giorgio allora cosa ci racconti ma cosa vi racconto intanto dove il telecomando no allora una precisazione secondo me è opportuna rispetto ma più che altro perché la platea ma anche chi ci segue da streaming è variegata e quindi qualche precisazione secondo me opportuna stiamo parlando comunque di un meccanismo totalmente virtuale cioè quindi quando parliamo di cessione dell'energia di scambio di autoconsumo in realtà comunque stiamo parlando che e questo ci tornerà utile per qualche ragionamento successivo comunque tutti gli autoconsum tutti i consumatori del titolare delle unità di consumo all'interno della comunità energetica rimangono allacciati e contrattualizzati con il proprio fornitore di energia elettrica e viceversa chi è proprietario dell'impianto fotovoltaico esatto quello si autoconsuma davvero e qui poi entrano in gioco le questioni accise che sono state spiegate prima tutto il resto dell'energia lo immette in rete semplicemente poi un po' forse come avviene con lo scambio sul posto è tutta una questione di bilanciamento commerciale quindi in questo senso però mentre lo scambio sul posto tu venivi rimunerato per mettere in rete energia green quando ti pareva te hai detto sostanzialmente con la possibilità poi di recuperare quando prelevavi energia dalla rete di avere uno sconto su questa energia adesso quello che non consumi non autoconsumi e immetti in rete ti viene pagato il prezzo di mercato dell'energia punto e basta non è che se poi il giorno dopo consumi di più ti fanno lo sconto perché l'hai messa in rete come era all'inizio il meccanismo di incentivazione del fotovoltaico motivo per cui prima dicevo che lì non si è badato minimamente a favorire l'autoconsumo che invece sarebbe stata già una cosa intelligente anche dieci anni fa perché no comunque peraltro poi proprio su questo meccanismo virtuale la faccio dopo peraltro era una domanda più per l'ingegner Ciaccia ma allora per quanto riguarda le comunità energetiche quello che i profili legali potrebbero essere potremmo stare a parlare da qui a stasera o a domani nei pochi minuti invece mi sono voluto concentrare sulla parte che in questo momento è quella che viene più richiesta cioè come facciamo a partire sostanzialmente i profili legali sono ovviamente numerosissimi altri quali andiamo a contrattualizzare a regolare i rapporti tra poi i vari soggetti che si interfacciano con la comunità energetica quindi quelli che realizzano gli impianti che li possono realizzare tramite normali contratti di appalto oppure lo possono fare per esempio il leasing mettendo in disposizione a disposizione della comunità l'impianto adesso però vorrei concentrarmi un attimo sulla come costituirla questa comunità quantomeno per iniziare a partire e la cosa importante che insomma il presupposto più importante è il fatto che così come in realtà non è la prima volta che assistiamo a questo ma anche altre volte l'autorità e ovviamente il legislatore ha lasciato alla libera contrattazione delle parti totale la regolazione dei rapporti interni quindi sostanzialmente senza entrare nel dettaglio di quali debbano essere i rapporti e anche per quanto riguarda la forma giuridica che possa si dà uno statuto alla energy community stessa e dice e decide se non sbaglio per esempio come utilizzare l'incentivo assolutamente assolutamente sì sì cioè l'arera non vuole sapere nulla di tutto questo nel senso è assolutamente io ti riconosco l'incentivo e poi tu all'interno delle attuali community per esempio un comune diventa il gestore dell'energy community decide di usare una quota di quella roba lì per combattere la povertà energetica esatto si mettono insieme delle imprese e si fanno semplicemente lo sconto sul prezzo dell'energia non so come dire è una no giusto è una cosa che viene decisa dall'energy community stessa quando si costituisce se ben capito totalmente assolutamente sì il primo presupposto ci sono dei capisaldi secondo me che dobbiamo prendere a riferimento per poi capire quali valutazioni occorre fare per individuare la forma giuridica corretta diciamo il primo è la soggettività giuridica cioè la comunità energetica è un soggetto giuridico autonomo dotato diciamo centro di imputazione di interessi di diritti e questo è un concetto su cui torneremo anche successivamente soprattutto con riguardo al sì esatto al GSE il soggetto referente il soggetto responsabile almeno a normativa attuale poi vedremo il decreto mite che verrà cosa deciderà però a normativa attuale il soggetto di riferimento il soggetto referente è la comunità energetica intesa come soggetto di diritto e questo è molto rilevante per quanto riguarda poi gli aspetti di responsabilità che però vedremo un attimo dopo un altro presupposto importantissimo è lo scopo nel senso tutte le normative finora introdotte dalla direttiva al ricevimento parziale ricevimento poi definitivo hanno sempre messo a chiare lettere il fatto che diciamo scopo della comunità energetica inteso come soggetto di diritto non deve essere o perlomeno non deve essere prevalentemente il profitto finanziario sono diciamo questo si vede non soltanto da come effettivamente è stato è stato diciamo la definizione dell'articolo 31 del 199 e cioè che deve fornire benefici ambientali economici o sociali a livello di comunità e non quello di realizzare profitti finanziari è pur vero ovviamente che questa questa cosa non può essere presa naturalmente in senso assoluto profitti finanziari in qualche modo possono essere il manutentore avrà diritto di essere pagato per il lavoro che fa però come fine ultimo della comunità energetica sì ma anche la comunità ora noi parliamo di comunità energetica e ne parliamo così anche da tempo anche in senso astratto visto che comunque se ne è parlato prima e poi fatte ovviamente però parliamo di comunità energetica ma in realtà si dovrebbe parlare di n mila modi di tipologie di comunità energetica che potranno essere sviluppate tutte comunque accomunate da questo scopo che noi chiamiamo lì mutualistico perché da un punto di vista giuridico è qualcosa che ci torna utile per capire quale forma giuridica poter utilizzare quindi non scopo di lucro o comunque non solo scopo di lucro finalità mutualistica o altruistica nel senso mutualistica nel senso di i membri della comunità partecipano alla comunità innanzitutto perché comunque intendono abbattere i propri costi in bolletta banalmente altruistica anche perché deve fornire appunto questi benefici ambientali attraverso anche dei meccanismi che gli ingegneri tecnici sicuramente saranno spiegare meglio di me per esempio dei KPI per capire effettivamente quali benefici abbia apportato la comunità e l'infrastruttura della comunità all'ambiente requisiti soggettivi per quanto riguarda i requisiti soggettivi questo è un qualcosa che ho notato all'interno del 42 bis e poi quando parliamo di 42 bis parliamo del recepimento provvisorio della normativa si faceva riferimento al fatto che azionisti o membri devono essere sono persone fisiche piccole e medie imprese e questo è anche sempre in quell'ottica di evitare profitti finanziari enti territoriali e autorità locali mentre invece nella nuova normativa quello che abbiamo notato è che a queste categorie viene queste categorie che vengono prese in considerazione per quanto riguarda l'esercizio dei poteri di controllo che quindi devono fare capo esclusivamente a questa tipologia di consumatori per quanto leggendo la norma viene da dire bene allora evidentemente possono far parte della comunità anche altri soggetti purché non facciano non abbiano il controllo questo magari è un qualcosa che sarà preso poi in analisi dall'autorità nel momento in cui dovrà andare a emettere la delibera di aggiornamento cosa molto importante come è stato accennato prima dall'ingegner petronico del GSE il modello aperto è con facoltà di recesso quindi insomma è un modello totalmente aperto in entrata e in uscita questo diciamo non è che è un qualcosa di anche qui astratto cioè è comunque un qualcosa che va necessariamente a riguardare una domanda adesso mi hai fatto venire un dubbio gigantesco ma naturalmente giusto c'è il modello aperto chiunque può entrare e poi uscire ma il gestore dell'energy community può farlo anche lui impazzisce può anche lui decidere no io non voglio giusto modello aperto immagina che io come dire domani non lo farò mai ma fondo una energy community conosco uno che l'ha fatto mi fondo una energy community da solo mi metto 20 kilowatt di pannelli fotovoltaici sul tetto e poi va dico ai miei tre vicini di casa con loro faccio un energy community poi sono io quello che cambia non loro che giustamente se ne vanno ma sono di quello io dico basta non voglio sono parte ma soggetto al gestore ma lui proprietario dell'impianto fotovoltaico questo intendi mi tiro fuori crolla l'energy cosa succede ma tutto sta sì naturalmente tutto sta nel regolo del gioco che ci scriviamo cioè perché proprio perché il legislatore e il regolatore ha lasciato carta bianca altri soggetti anche loro hanno investito sul fatto che esista l'energy community sì però immagino che se hanno investito si sono affidati a dei buoni avvocati che hanno scritto il contratto sociale e i rapporti interni in maniera adeguata è tutto lì naturalmente modello aperto e quindi l'entrata e l'uscita che non può essere appunto considerato soltanto in astratto ma anche in concreto quindi comunque visto che non ci sono delle forme giuridiche qualunque forma giuridica nel diritto italiano ma penso mondiale non prevede un diritto all'ingresso e all'uscita così ad nutum è evidente che andrà regolato in maniera puntuale da un lato in maniera rigorosa perché comunque questa è una caratteristica fondante della comunità energetica quindi potresti se non viene fuori evidentemente forse allora si può mettere anche in discussione che quella sia una vera comunità energetica o comunque che abbia requisiti di legge è naturalmente poi declinato secondo le esigenze concrete nel senso va bene modello aperto ma visto che come mi insegneranno qui i colleghi tecnici diciamo l'optimum si raggiunge nel momento in cui vai a fare un perfetto bilanciamento tra produzione e consumo esatto e quindi un perfetto dimensionamento è chiaro che non può essere diciamo aperto all'infinito ovviamente a meno che poi non ci sia dell'ulteriore generazione è non chiuso chiamiamolo è un modello non chiuso esatto a meno che ovviamente poi non ci si vada a implementare dell'ulteriore generazione elettrica è molto chiaro c'è il rischio che se resta troppo aperto sempre a tutti a un certo punto ci sono degli entrate che in realtà creano danni all'energy community lì ci vuole un meccanismo che eviti queste situazioni o comunque questo se ho ben capito dici che le tenga sotto prego ulteriore caratteristica hanno natura imprenditoriale per certi versi nel senso che comunque vuoi perché sono soggetti di diritto autonomo vuoi perché comunque hanno si interfacciano necessariamente anche eventualmente tramite consulenti quali possono essere le ESCO per esempio e chi mi succederà probabilmente spiegherà questo però in ogni caso comunque loro sono dei veri e propri imprenditori energetici anche perché in base anche a come si configura la comunità energetica loro possono diciamo se la stessa comunità energetica viene anche a considerarsi in base al fatto che per esempio proprietario dell'impianto fotovoltaico o titolare delle autorizzazioni dell'officina elettrica andare a cedere in rete questa energia quella si configura come una cessione di energia naturalmente in questo senso considero una natura parzialmente imprenditoriale e poi da ultimo c'è diciamo una variabile che da considerare che è quella della partecipazione degli enti pubblici partecipazione degli enti pubblici che è non solo consentita ma anche promossa e stimolata dal legislatore giustamente e che però non so qualche considerazione in più occorre farla proprio a questo proposito ci siamo diciamo abbiamo fatto se ok allora partiamo da quelle che diciamo la cosa più facile quali sono le forme giuridiche che sembrano realmente incompatibili con la comunità energetica sono il contratto di rete il consorzio e la società concertile molto semplicemente perché queste forme giuridiche presuppongono il fatto che i soci i membri debbano essere comunque imprenditori persone giuridiche quindi non è aperta la possibilità alle persone fisiche che invece deve essere necessariamente come abbiamo detto prima la comunità energetica noi vediamo che il più delle volte diciamo anche attraverso i nostri contatti che sono anche presenti in sala che il modello più diffuso e che viene così divulgato è quello dell'associazione come modello come diciamo forma giuridica che viene attribuita a queste comunità energetiche che stanno nascendo perché l'associazione perché è comunque un modello snello la prima cosa che ti dice il cliente è sì ma io non posso andare dal notaio ogni volta perché ovviamente noi facciamo presente bene l'associazione sappi che ha queste problematiche qui ovviamente non può essere considerata al pari di un SRL e il cliente gli dice sì ma non possiamo andarcene dal notaio ogni volta che dobbiamo far entrare un socio o uscire un socio o aumentare perché ovviamente nel momento in cui va a creare una CER in forma di SRL nel momento in cui entra un nuovo socio si configura un aumento del capitale una delibera un atto notario a dover stipulare e così via e quindi ovviamente la forma che si sta più diffondendo è l'associazione in questo momento la forma che però secondo me è quella che sembra più naturale rispetto a quella disegnata dal legislatore è quella della cooperativa proprio perché comunque e qui poi probabilmente la coppa nostra ci spiegherà meglio perché diciamo ovviamente incontra le caratteristiche del modello aperto e cioè della possibilità di fare entrare uscire soci in maniera certamente più snella rispetto a una società un modello democratico nel senso che comunque ovviamente a prescindere dalla partecipazione comunque vale il voto capitario per ciascuno e però è comunque una forma societaria è una forma societaria che sotto un certo punto di vista ti mette a riparo determinate anche problematiche e conseguenze negative che possono derivare ad esempio faccio un esempio che però dall'esperienza mia di tanti nel momento in cui un impianto fotovoltaico di tizio da 300 kilowatt viene messo a disposizione della comunità energetica e ai fini dell'incentivo quell'impianto fotovoltaico deve risultare cioè per quell'impianto fotovoltaico è la comunità energetica che deve risultare soggetto referente se tra 15 anni il GSE viene e fa un controllo benché l'impianto sia di proprietà del soggetto tizio che l'ha realizzato e tutto e che quindi diciamo lui è da avere il controllo totale del progetto i soldi vengono gesti indietro alla comunità energetica non a quello che si è beccato il doppio incentivo e no perché è il soggetto referente ora un conto è che viene richiesto alla comunità energetica che ha una forma diciamo così rudimentale come quella dell'associazione e che quindi diciamo c'è anche una pochissima tutela nei confronti di quelli che sono gli associati ma soprattutto gli amministratori dell'associazione un altro discorso è che invece viene effettuato nei confronti di un soggetto sociale adesso io devo chiederti proprio di andare in chiusura poi diciamo una cosa pesa molto c'è energy community e energy community perché sotto una cabina primaria ci sta roba anche bella molto grossa sotto una cabina secondaria per quanto anche i rischi legati ad eventuali irregolarità errori quindi insomma una grande energy community che non abbia come dire delle regole chiare anche in termini di responsabilità effettivamente può essere sta dicendo un problema lo è in generale è l'ultima cosa da considerare cioè l'ultima l'ultima che mi è concesso dire ora sì è il fatto che nel momento in cui entrano a far parte della comunità energetica e comuni bene se tutto quello che abbiamo detto è vero e quindi che è il modello associativo sì bello per partire adesso sicuramente fantastico però forse non è quello che veramente servirà quando il sistema è a regime beh allora nel momento in cui entra un ente pubblico una società partecipata e quant'altro bisogna anche fare i conti con ad esempio il testo unico sulle partecipate che ovviamente ha dei limiti e dei paletti che bisogna rispettare affinché attualmente diciamo la presenza di un soggetto come questo nelle esperienze che ci sono oggi viene vista invece come un elemento di garanzia perché chi quei pochi che hanno provato a cimentarsi come privati cittadini ne conosco uno la prima energy community nata da un singolo cittadino diceva che persino i suoi vicini di casa gli dicevano guarda che so dove abiti cioè dice sanno che lavoro faccio sanno che sono una persona di specchiata onestà ma se gli vai a dire guarda possiamo costituire le energie ti guardano come se stessi cercando di vendergli qualche sostanza illegale e che gli fa pure male ecco quindi diciamo che anche la presenza di soggetti che diano un senso di certezza magari anche falso la presenza dei comuni è fondamentale fa poco fa tanto per convincere le persone a entrare perché altrimenti la scambiano per l'ennesima telefonata all'operatore che vuole venderti il suo contratto no no ma infatti la presenza dei comuni è fondamentale proprio in senso di sussideri da originale molto chiaro il tuo discorso anzi ti ringrazio perché ho imparato un sacco di cose grazie allora Cantarella eccolo qua l'abbiamo evocata queste esco più di una volta soggetto che può operare ma che non può essere il detentore sostanzialmente può essere il gestore all'atto pratico ma non può essere il famoso soggetto responsabile dell'energy community allora qual è la vostra posizione in merito? intanto grazie perché un sacco dei temi che volevo trattare sono stati anticipati non solo in questa tavola rotonda ma anche in quella della mattina finalmente mi sento di dire questo argomento comunità energetica è sulla bocca di tutti ci sono una marea di convegni di iniziative territoriali e nazionali e dico finalmente perché noi da un paio d'anni come associazione lavoriamo su questo tema ovviamente abbiamo partecipato al processo regolatorio ma ci siamo anche fortemente interrogati e confrontati tra di noi operatori di questo settore per capire come nell'evoluzione normativa diciamo il nostro ruolo il ruolo di chi deve promuovere ma poi gestire come si è detto stamattina possa in qualche modo vedere la luce l'elemento di novità è rivoluzionario non è un caso che da giorni da settimane ormai da mesi nel nostro caso questo argomento ha passioni ha passioni sempre di più perché la condivisione dell'energia è un concetto rivoluzionario soprattutto per quello che abbiamo visto fino a oggi e aggiungo diciamo da ingegnere che consente di superare un passettino non banale che ha ristretto secondo me il campo di applicazione delle rinnovabili fino a oggi ovvero il tema del dimensionamento oggi chi è proprietario di un tetto o di un terreno ovviamente non agricolo insomma chi ha uno spazio per realizzare un impianto non farà non fa non farà più i conti con quanto consumo mi conviene non mi conviene ma diciamo l'intento del regolatore dovrebbe essere quello di metterlo nella condizione di dire posso saturare il meccanismo comunque premia la costruzione appunto di comunità che tendano a autoconsumare idealmente tutto per cui se poi non si preoccupa di queste cose peggio per lui ecco insomma però non ha il problema di risolverlo in prima persona ecco insomma lo risolvi col disegno della comunità e non tu facendo alzandoti di notte per cucinare perché o preparando la cena a mezzogiorno perché c'è esatto però per fare un esempio molto concreto quanti capannoni industriali ci sono nelle periferie dei piccoli comuni che hanno realizzato magari solo un mezzo tetto una falda perché quello corrispondeva al loro autoconsumo oggi quelli saranno i soggetti chiamati a dimensionare un bell'impianto la cui energia potrà essere condivisa con tutte le utenze che sono in immediata prossimità di quell'impianto questo è senz'altro una rivoluzione grande passo avanti esatto detto questo ovviamente qualche nodo c'è qualcuno lo ha anticipato prima di me in generale come associazione osserviamo questo rallentamento diciamo nel processo di recepimento perché il pre-recepimento ha avuto senz'altro il merito di iniziare a sdoganare il tema di fare un po' di cultura di diffondere qualche caso su cui fare qualche sperimentazione anche se dobbiamo osservare che anche i primi casi partiti diciamo i più blasonati da Magliano Alpi a Ferla insomma quelli che hanno girato i convegni in questi mesi di fatto si sono scontrati anche loro con diciamo un territorio inesplorato per tutti anche con il GSE da una parte le istituzioni dall'altra che non erano pronte in tanti casi a dare le risposte di cui loro avevano bisogno per sviluppare le iniziative però mi sembra insomma che con il contributo di tutti il processo regolatorio stia andando avanti quello che diciamo auspichiamo come associazione è che vada avanti in tempi rapidi oggi qualcuno ci ha dato indicazioni sui tempi è chiaro che rispetto alla scadenza di settembre anche solo qualche settimana o mese guadagnato non dico su tutto il processo ma su alcuni tasselli di questo processo in evoluzione potrebbe fare la differenza nello sviluppo di alcune iniziative per rispondere anche alla tua osservazione non c'è un mercato fermo i nostri associati molte imprese del settore energia stanno sviluppando iniziative lo stanno sviluppando da una parte affidandosi a una normativa primaria che comunque dà dei paletti fondamentali la normativa vigente cioè chi decide di costituire una energy community a normativa vigente potrà poi passare al regime previsto dalla normativa successiva non sta a me rispondere ma qualche rumor mi ha detto di sì a chi sta a rispondere chiediamo poi a GSR fino a un po' di tempo Fazzi diceva di no e quindi io mi immagino che uno ci pensi dieci volte se gli fa più comodo se con lo scenario rischia addirittura di farsi del male però per rispondere a questo è chiaro che un impianto partito è uguale al no è evidente però è chiaro che un impianto partito dopo il 15 dicembre del 2021 che è la data di entrata in vigore del decreto 199 che è recepimento vorrei essere smentito se non è così ma inevitabilmente cascherà nella nuova regolazione quando verrà recepita la norma chi l'ha fatto dopo la produzione della stessa scusate io non parlo linguaggio giuridico corretto ma insomma in attesa che diventi norma ufficiale però esistendo già di fatto come norma non è applicata ma quando diventerà applicativa chi ha costituito dopo l'energy community potrà rientrare in questo quando il set di regole sarà completo funzionerà il portale saprò qual è l'incentivo e tutto il resto ovviamente potrò sanare quanto è avvenuto dal 15 dicembre al 15 dicembre ad oggi quanto meno da quel momento mi sentirei di dire ecco però se posso chiedo all'ingegnere Petroni di smentirmi però nel momento in cui c'è già una comunità energetica e fra un anno vai a realizzare un altro impianto per quella comunità energetica comunque quell'impianto accede alla normativa nuova esatto non c'è dubbio esatto ma quello che dicevamo scusami se non siete accorto Giorgio dimmelo è anche un impianto avviato a gennaio 2022 essendo successivo al decreto di ricepimento 199 si innesta soprattutto se è superiore a 200 kilowatt interpretazione prevalente sarebbe bello che non fosse un'interpretazione ecco diciamo così ma magari qualcuno che ci segue o nel dibattito finale chiediamo conferma a GS Barera quindi dicevo il processo regolatorio dicevo alcuni paletti se risolti potrebbero ovviamente risolvere alcuni aspetti parliamo delle cabine primarie sappiamo che sarà questo il perimetro di aggregazione però come giustamente si diceva un conto è lavorare in una valle in cui c'è una cabina che serve 10 comuni in fila è abbastanza palese che quelli stiano sotto un'unica cabina la città di Milano sono una decina o poco più e una via con l'altra potrebbe essere spartiacque di un'aggregazione fattibile o non fattibile adesso anche qua queste sono le cose fantastiche di questi momenti di cambiamento queste robe sono considerate secretate cioè nel senso la mappa delle cabine primarie italiane la Enel la conosce ovviamente Terna è chiaro che la gestisce ma ufficialmente nessun altro deve saperlo perché è un'informazione come dice dopodiché c'è Google Maps diciamo mi sembra difficile oggi però non so oddio se sono mascherate cose di questo genere però in teoria quello effettivamente è uno dei motivi per cui non si sa che è meglio non saperlo se un malintenzionato avesse qualche cattività non è solo questo poi magari l'autorità mi correggerà ma è anche che il distributore cioè facoltà del distributore poi muovere la rete elettrica spostare un cavo da una parte all'altra nei limiti giustamente per altri tornando al discorso quindi da ESCO quello che ovviamente chiediamo è un set di regole certo perché questa è la condizione che ci permette di fare la nostra parte nello sviluppo di queste iniziative ma qual è la parte dell'ESCO tutti sanno l'ESCO sono un bel bacino di competenze competenze molto trasversali quello che abbiamo fatto in questi anni occupandoci di efficienza energetica di generazione distribuita di finanziamento di impianti di schemi societari per sviluppare iniziative è un patrimonio molto rilevante che senz'altro può essere attualizzato e declinato nello sviluppo delle iniziative di comunità energetiche in questo rimane senz'altro da constatare il fatto che il ruolo che ci viene dato dall'assetto normativo attuale non è lampante non è limpido o meglio è previsto senz'altro il fatto che un ESCO possa investire sull'impianto fotovoltaico l'impianto a fonte rinnovabile che alimenta la CER ma è altrettanto stressato il fatto che non possa far parte direttamente della comunità energetica salvo l'osservazione ovviamente che mi ha preceduto rispetto al fatto che forse nella nuova regolazione sarà più un tema di poteri di controllo che non di farne parte è chiaro però che chi fa un investimento chi ha tutte le competenze per gestire queste iniziative la vorrebbe controllare ma non è un tema di controllo perché è assolutamente accettabile per noi la possibilità che il controllo sia allargato diffuso che ci sia un tema di ricaduta con i membri della comunità energetica ma ovviamente siamo delle imprese quindi avremo necessità di avere un set di relazioni che ci lega la comunità energetica per cui non dico che i nostri investimenti siano zero rischio perché altrimenti non saremmo imprese ogni iniziativa di business ha un tema di rischio ma dobbiamo garantire il fatto che la comunità energetica funzioni e nel funzionare che porti a casa l'incentivo che questo incentivo possa essere correttamente utilizzato e ridistribuito secondo le regole che la comunità stessa si è data da questo punto di vista devo dire che alcuni argomenti diciamo non perfettamente messi a fuoco rischiano di essere uno spartiacque sull'interesse di alcune esco italiane anche molto grosse e blasonate il tema del referente è stato citato prima oggi la esco non può essere referente è indubbio che questa azione possa essere fatta nella forma consulenziale quindi soggetto terzo che dà consulenza alla CER però come c'è stato spiegato nell'intervento che mi ha preceduto poi c'è un tema di responsabilità oggettiva cioè il sindaco del comune che ha lanciato la sua iniziativa da 20 kilowatt sul municipio che si è fatto legale rappresentante di una di un'associazione o qualunque altra forma ovviamente si affida a un soggetto competente ma in prima battuta ne risponde quindi diciamo dal punto di vista formale ci sono diverse cose da mettere a posto e il fatto che ricadiamo nell'associazione lo confermo senz'altro come soggetto giuridico da utilizzare nello sviluppare queste iniziative mostra i limiti di un'idea che la comunità energetica ha molto bella che però declinata nel tessuto italiano si scontra con un po' di resistenze di problematiche che caratterizzano appunto il tessuto italiano il ruolo del referente l'ho citato come sicuramente uno di quelli che sentiamo e che limita in qualche modo la nostra azione aggiungo la definizione degli incentivi cioè il decreto 199 di dicembre ad oggi non abbiamo non solo la conferma che gli incentivi del pre-recepimento siano ancora diciamo il numero su cui atterreremo ma il decreto accenna la possibilità che questo numero il 110 euro il 100 euro che ci ha mostrato prima il GSE possa essere rivisto non solo con un criterio dimensionale quindi un impianto più grande se sei molto più grande ne prendi di meno ma anche si vocifera con una questione di tecnologia cioè l'impianto a biomassa legnosa da filiera corta avrà un incentivo diverso dal pannello fotovoltaico io non ho la risposta ovviamente ma solo se avremo questa risposta potremmo sviluppare iniziative diciamo concrete in questo senso sottolineo ma questo l'autorità lo sa bene che c'è un ulteriore problema l'incentivo non va alla produzione ma va all'energia condivisa l'energia condivisa è una all'interno di una comunità energetica è stato spiegato dal GSE è il minimo in ogni ora tra sommatoria di prodotta e sommatoria dei consumi ma se la produzione avviene da impianti diversi tra loro magari incentivati in maniera diversa come viene questo attribuito dal punto di vista economico a un'unica entità che l'ha condivisa magari mi correggerà l'ingegneria se non è così ma se ho capito bene anche il documento di consultazione punterà a trattare che attendiamo punterà a guardare a questi aspetti di carattere poi operativo pratico che incidono sul nostro dimensionamento e sull'azione che vogliamo fare chiudo con un passaggio sul tema del coinvolgimento della pubblica amministrazione che ci sta molto a cuore è evidente nell'intento del regolatore anche qualcuno l'ha detto prima di me che si voglia coinvolgere la pubblica amministrazione ma le iniziative che sono state portate avanti fin qui hanno mostrato alcuni limiti rispetto alla modalità con cui questo possa avvenire funziona il concetto di una pubblica amministrazione che paga e realizza il suo impianto funziona un po' meno quando è un soggetto terzo che deve investire sul patrimonio pubblico perché qui si deve affidare ovviamente a meccanismi di evidenza pubblica delle forme di gare ma non sono gare tradizionali perché sono forse gare di affitto del tetto di una scuola sono gare a rialzo o forse devono essere in qualche modo incanalate verso i PPP il partenariato pubblico privato quindi una forma ovviamente più strutturata che la normativa ci dà sottolineo però il fatto che i PPP sono strumenti efficaci belli ma molto complicati che si giustificano ma qua se finiamo dentro la solito problema noi abbiamo 8.000 comuni di cui ce ne sono alcune centinaia con magari capacità anche tecniche significative altri ridotte e migliaia e migliaia di comuni in cui c'è un tecnico comunale che dovrebbe essere esperto dalle ferrovie all'aviazione alla fisica alla chimica alla meccanica quantistica dovrebbe sapere tutto lui e questo evidentemente è impossibile volevo sottolineare solo due cose in chiusura rapidissimo ho apprezzato molto gli interventi di natura fiscale e delle dogane che ci hanno preceduto che hanno messo in luce la complessità le comunità energetiche si candidano ad essere un calderone nel senso positivo del termine di soggetti che partecipano a un'iniziativa comune ma si scontrano con regole che dipendono da chi sono quanto è grande il loro impianto è un tema che è venuto fuori molto chiaramente e che noi ovviamente sentiamo molto nelle iniziative che stiamo sviluppando grazie allora io vado volevo anche perché avendo poi un'altra tavola rotonda dovrò lasciare a qualcuno lascio a te l'onere di chiudere l'ultimo blocco di questo pomeriggio dedicato all'energy community volevo però andare velocemente da Paolo Dermo che so che ha in grado di farci una fotografia anche abbastanza telecomando prego una bella fotografia di quello che intanto c'è e sta di quello che già esiste e forse anche di quello che è in via di ebollizione grazie chiedo alla regia se si può progettare sì intanto mi presento Paolo Dermo segretario generale del World Energy Council Italia che insieme al Politecnico di Torino Energy Center poco più di un anno fa anzi un anno fa esattamente lanciava l'Italian Forum of Energy Communities quindi la prima notizia è che esiste un forum italiano sulle comunità energetiche questa è la prima notizia che volevo dare ci sono molti amici che conosco però ci sono molti anche che non lo sanno l'anno scorso a novembre abbiamo tenuto la prima conferenza nazionale abbiamo anche dato il primo premio per la comunità energetica di maggiore carica innovativa tecnica e sociale innovazione tecnica e innovazione sociale e San Daniele del Friuli che è una comunità energetica istituita nell'ambito della comunità culinaria del Friuli ha avuto questo riconoscimento quello è un contesto molto interessante adesso vedremo perché vedete nella fotografia oltre al professor Borchellini anche la coordinatrice dell'IFEC che è la professoressa Gabriella De Maio titolare della cattedra di diritto dell'energia della Federico II che ci segue sull'Italian Formal Energy Community come coordinatrice e come vedete dal parterre multidisciplinare assolutamente perché le comunità energetiche si portano dietro un tema di multidisciplinarità delle competenze giuridiche legali tecniche di simulazione e ottimizzazione degli impianti come abbiamo sentito tutto questa mattina ma si porta dietro anche un tema di integratori di tecnologie di piattaforme digitali quindi questo è quello che in poco più di un anno è diventato l'Italian Forum Energy Community soggetti molto grandi soggetti più piccoli soggetti integratori soggetti che sono anche studi di avvocati e ovviamente le comunità energetiche vedete Magliano Alpi lì Simbolino la comunità collinare del Fiuli se ne stanno aggiungendo altre due al forum che sono neonate una è Colle Salvetti il comune di Colle Salvetti in provincia di Livorno sta per costituire una comunità energetica quindi entrerà a breve poi anche a Teramo in provincia di Teramo una piccolissima comunità energetica tre privati che hanno deciso di costituire una comunità energetica comunque questo per darvi una fotografia veloce le attività che stiamo mettendo in campo quest'anno ve lo dico perché toccano i temi che abbiamo detto che hanno toccato stamattina abbiamo anzitutto interloquito inizio anno col GSE per quanto riguarda il tema delle piattaforme informatiche perché c'è un grossissimo tema di come si parlano le piattaforme informatiche con la piattaforma del GSE quindi siccome le comunità energetiche saranno dinamiche potranno cambiare entrare e uscire le anagrafiche delle comunità energetiche se le si devono inserire a mano col foglio Excel diventa un po' difficile da gestire poi abbiamo approfondito proprio la settimana scorsa a Napoli il tema delle comunità energetiche rispetto alle autorità portuali tema molto interessante c'è un decreto molto recente non so quanti voi cioè è stato inserito un emendamento in uno degli ultimi decreti d'urgenza che prevede per le autorità portuali almeno per alcuni contesti portuali il superamento del limite del megawatt quindi si va perché le esigenze dei porti sono superiori ben superiori a potenze come quelle del limite del megawatt e quindi questa è una novità importante e poi il tema della governanza che andremo ad affrontare a luglio con un workshop specifico in cui vorremmo proprio portare la testimonianza di quali sono le forme giuridiche che stanno scegliendo le comunità energetiche dico una cosa rubo un secondo per raccontare una cosa delle tante che ci dicono come sta cambiando questo mondo pensate ai porti voi avete a un certo punto che vi arriva una nave da crociera questa nave da crociera è una città che improvvisamente vi arriva sul porto allora due le possibilità o voi alimentate una città per sei ore e poi avete una centrale che tenete non so come ma addirittura potrebbe essere il contrario potrebbe succedere un domani che delle navi che hanno i loro sistemi di generazione a bordo potrebbero cederla a loro volta nel senso non è una cosa che faremo domani ma per dire come stiamo andando verso scenari anche veramente lontani no molto lontani in realtà recentissimamente si sta ragionando sul cold ironing quindi sull'inverso cioè di fare generazione per le navi però l'elettrificazione dell'elettrificazione delle navi tornando sulle comunità energetiche porti invece c'è un grande tema di come il porto può interagire con l'entroterra e quindi fornire come hub energetico anche energia all'entroterra quindi lo scambio di energia sicuramente nei momenti in cui la nave se ne va tu hai una sovrapproduzione insomma è un sistema raffinato se vogliamo farlo bene quello che dobbiamo mettere insieme è complesso il tema che è emerso anche la settimana scorsa è che qui siamo di fronte a scenari soprattutto quelli portuali molto complessi quindi bisogna conoscere questi scenari avere delle competenze prima lo si diceva per il giuridico se faccio una comunità energetica voglio che sia solida innanzitutto deve essere ben ottimizzata la prima battuta che mi veniva da fare prima è se è bene ottimizzata è più difficile che c'è l'entri e esci continuo quindi se l'ho dimensionata bene se ho scritto delle regole anche diciamo solide posso essere confidente comunque tornando sul programma sui nostri programmi quindi parleremo anche di innovazione sulla rete di distribuzione di carburante e le opportunità per le share così come poi ci sarà la conferenza nazionale e stiamo lavorando con Key Energy per un evento sulle share termiche che è un altro tema su cui stiamo guardando di innovazione futura detto questo non mi soffermo qui molto perché è già stato detto ampiamente quindi la rivoluzione one to many many to many cioè più consumer e solo consumer che si mettono insieme per produrre e scambiare energia la rivoluzione è stata già sottolineata i benefici sono stati ampiamente visti andrei più sulla mappatura andiamo a vedere cosa sta succedendo sulla mappatura quindi questa l'ha prodotta l'RSE un ottimo monitoraggio che sta facendo l'RSE con la pubblicazione di questa prima monografia adesso la sta aggiornando queste sono le comunità energetiche ovviamente non tutte già giuridicamente costituite all'epoca della pubblicazione cioè a fine del 2021 alcune di queste sono già state costituite la City Hall di Maiano Alpi ovviamente la trovate nel progetto Recocer cioè San Daniele del Friuli quello è un progetto molto interessante perché lì la comunità collinare del Friuli quindi un'entità macro territoriale ha l'obiettivo nel prossimo biennio di installare decine di cer partendo da San Daniele del Friuli che è il modello diciamo di cabina secondaria che vuole essere un po' il modello da scalare da replicare e in un'ottica di cabina primaria invece adesso si sta ragionando come scalare e come spendere le ingenti risorse per la comunità sono stati stanziati 5 milioni di euro non poco insomma per destinare alle cer quindi come vedete c'è anche una diversità geografica cioè anche nel sud ci sono molte iniziative che stanno nascendo c'è quella di Napoli Est che puntava molto molto famoso sull'aspetto sociale sulla povertà energetica e anche in Sardegna c'è un certo fermento e aggiungo a queste qui quelle che vi dicevo prima Biccari forse che invece è più incentrata su aspetti di carattere industriale ricordo bene da memoria sì con Biccari poi non abbiamo avuto un'interazione diretta quindi non le saprei dire non ti saprei dire precisamente mentre invece altre che non sono su questa mappa sono quelle che citavo prima con le salvetti la citavo prima una Teramo e poi si sta anche giù in Basilicata c'è un'associazione che si è neocostituita Local Energy che ha l'obiettivo di diffondere comunità energetiche detto questo solo due spunti cioè per ricordarci insomma le comunità energetiche su cosa che cosa significa costituire una comunità energetica queste sono ve le ho riassunte in una slide solamente le fasi progettuali di una comunità energetica che vi danno già questa ciambella vi dà l'idea di quanto è multidisciplinare il tema due punti di attenzione li abbiamo riassunti sotto allora il primo punto è il finanziamento per realizzare la FER e la gestione del workflow della CER cioè dobbiamo metterci nell'ottica che poi una volta costituita la CER anche il referente anche la tematica della gestione della comunità energetica va messo nel conto economico insomma cioè non è non è banale detto questo poi c'è una necessità e lo ribadiamo sempre di competenze multidisciplinari perché come dicevamo come hanno detto molti che mi hanno preceduto non siamo solo in un'ottica di devo installare un pannello fotovoltaico abbiamo cambiato proprio l'approccio totalmente e se non c'è l'ottimo dimensionamento della comunità energetica può accadere quello che si diceva prima cioè l'entrata l'uscita quindi su questo punto c'è bisogno di fare molta attenzione qui vengo a delle attività che noi stiamo seguendo invece direttamente come Italian Forum of Energy Communities quindi come team multidisciplinare Federico II Politecnico di Torino e World Energy Council e l'Italia e oltre Magliano Alpi di cui già vi ho parlato stiamo seguendo in provincia di Biella un progetto molto interessante dove c'è una ESCO posseduta da più di 70 comuni la quale sta sondando con noi sta realizzando la prima cer di cabina secondaria come pilota diciamo dopodiché sta ragionando con noi come in tutti e 72 comuni scalare comunità energetica e questo è proprio una ESCO quindi il tema è proprio quello che dibattevamo che stanno uscendo mi è stata segnalata quella della regione Lombardia che si è attivata insomma diciamo che in questo momento effettivamente il tema è caldo sul tema infatti sul tema finanziamenti non ci sono cosa che non è stata toccata ancora almeno non mi sembra ci sono tante opportunità di finanziamento legate alle comunità energetiche abbiamo ad esempio 2 miliardi 2 del PNRR sulle CER non per i comuni questo è un errore che si fa spesso per le comunità energetiche costituite cioè la comunità energetica non vuol dire comune questo pure è un'altra cosa da precisare sempre bene la comunità energetica giuridicamente costituita sarà destinataria dei fondi PNRR quindi da qui l'importanza anche magari di fare una CER di cabina secondaria perché poi quando usciranno i bandi PNRR si attendevano all'ugio sei pronto potremmo potremmo avere prima i bandi PNRR e poi dopo le regole quindi cioè bisogna ci sono comuni certa tattica oltre alla strategia mi stai ricordando che si stanno attrezzando anche per questo poi ci sono le leggi regionali i fondi regionali ci sono dei fondi stanziati da alcune leggi anche statali per i comuni al di sotto i 100 mila abitanti quindi di strumenti finanziari ce ne sono ritornando a quelle a quello che dicevamo prima le esperienze che stiamo seguendo poi anche con la collinaria del Friuli e con Acea Pinerolese che è un altro caso molto interessante questo è un utility territoriale e poi anche in Umbria ci hanno ci hanno contattato dall'associazione dei comuni dell'Olio e Sagrantino non so chi è pratico di voi delle zone di Perugia tra Perugia Trevi eccetera ci sono sette comuni fantastici che sono sotto sotto forma di associazione che ci hanno chiesto un supporto le altre le ho citate con le Salvelti Magliano Alpi sta evolvendo insieme a Carrù e Dolceacqua verso appunto ragionamenti di cabina primaria vedete c'è il progetto Macadò su cui si sta andando a ragionare appunto come mettere a fattore comune gli asset che stanno sviluppando e quindi ritornando a quello che dicevo prima queste sono interlocuzioni con soggetti macro territoriali questo elemento è da sottolineare perché soprattutto in ottica di cabina primaria è importante che ci sia una regia a livello territoriale se è una regia pubblica ancora più importante cioè che faccia da massa critica e da progettazione e pianificazione del territorio perché il peggio che potrebbe succedere è che nascano singole share sul territorio non in ottica di ottima io scusate rubo la parola ma solo per scusarmi c'è un altro convegno da moderare sempre qui lascio a Giorgio Castorina il cappello del moderatore troppo lavoro dell'avvocato e quindi dicevo il concetto di avere comunque una regia macro territoriale però comunque sì sì prego fallo quando vuoi insomma a gamba tesa e comunque sì sì sono andato a ripercorrere i concetti fondamentali quello che stavo stressando è che uno il dialogo con i soggetti pubblici sul territorio due con soggetti che siano quantomeno di dimensione macro territoriale quindi avere una disottimizzazione poi della nascita di comunità energetica a livello territoriale potrebbe portarci all'opposto di quello che era l'intento che abbiamo visto pure stamattina cioè creare una condivisione dell'energia il più possibile autoconsumata per alleggerire anche gli oneri cioè ulteriori sviluppi della rete questo quindi lo puoi fare solo se hai sotto occhio una regia macro territoriale quindi questo sicuramente poi questa sì l'ultima slide in cui vi ho riassunto quelli che sono un po' i tratti comuni delle comunità energetiche oggi esistenti cioè di che cosa stiamo parlando cioè quali sono le caratteristiche delle cerche che oggi ci sono sono cerdi fotovoltaico sostanzialmente con impianti fotovoltaici al di sotto dei 60 kW picco con presenza di accumulo no non c'è una cerra ad oggi con presenza di accumulo ci sono regole di ripartizione dei benefici economici no si sta studiando appunto come ripartire al meglio i benefici economici i numeri di membri delle cer sono al di sotto di 20 membri quindi non abbiamo ancora cer in cui anche perché la cabina secondaria insomma pone comunque un limite e chi sono i consumatori sono consumatori un misto tra privati e comune nel caso di Maiano Alpi ad esempio è stato il comune come promotore il sindaco in prima persona che è andato all'agenzia delle entrate a registrare e poi invece in altri casi ad esempio nella stessa Maiano sta per nascere la share 3 Maiano 3 dove ci sono solo privati cittadini poi per quanto riguarda le altre beh si stanno esaminando piattaforme informatiche questo è un aspetto molto importante cioè ai fini dell'ottimizzazione delle share e anche della spingere l'utente ad ottimizzare il consumo in termini di autoconsumo sempre di più e ottenere più incentivo le piattaforme informatiche che ad oggi sono un pezzo molto importante della comunità energetica ed è probabilmente quello di cui ci parlerà il dottor Nassuato dopo che è appunto le piattaforme digitali per le comunità energetiche ottimo motivo per cui faccio bene il mail list della situazione grazie per l'invito grazie a te grazie a tutti il sindaco di Padova e a Suesco e quindi chiamo sul palco la dottoressa Capuzzo di Coppe Nostra e il dottor Fabri direttore centrale mercato di era S.P.A. e amministratore delegato di Est Energy e il dottor Nassuato direttore commerciale di Regal Grid Europe per l'ultimo blocco sì sì io posso allora la prima a intervenire è la dottoressa Capuzzo di Enostra che immagino ci vorrà parlare delle esperienze di questa realtà Sì grazie e anche io ho delle slide per governare uso questo ringrazio intanto per l'invito Cos'è Enostra Comincia da quello infatti la prima slide è dedicata a Cos'è Enostra e come mai si occupa di questo Enostra è una cooperativa energetica che è nata come cooperativa di utenza di energia di elettricità solo rinnovabile e oggi è anche cooperativa di produzione quindi noi realizziamo impianti rinnovabili collettivi quindi realizzati grazie alla partecipazione dei soci sovventuri e vendiamo l'energia ai nostri soci stiamo realizzando ulteriori impianti oltre a quelli che abbiamo diciamo ereditato fondendoci con Rete Energie che era uno dei nostri soci fondatori facciamo servizi per l'efficienza energetica quindi aiutiamo le famiglie e le imprese a realizzare un proprio intervento a casa o sull'impresa appunto di razionalizzazione o di produzione di energia formazione informazione e appunto nella nostra intenzione di promuovere il modello la transizione energetica dal basso ci occupiamo anche di attivare comunità energetiche rinnovabili io qui ovviamente non vado a raccontare le cose che già sono state dette magari invece mi spingo ad approfondire alcuni aspetti che ci stanno a cuore rispetto per esempio la prima cosa rispetto agli obiettivi delle comunità energetiche abbiamo detto sono obiettivi sociali ambientali ed economici a vantaggio dei membri delle comunità sono alcuni aspetti che per noi è importante stressare nel nostro approccio proprio quello che questa iniziativa l'aspetto innovativo è che rende protagonisti questi soggetti abbiamo detto uniti insieme quindi si deve trovare un equilibrio tra gli interessi dell'ente locale delle famiglie delle imprese che partecipano a questo nuovo soggetto giuridico questo dal punto di vista anche dell'innovazione sociale è un'esperienza molto nuova e si deve trovare l'equilibrio appunto tra questi soggetti è un'opportunità per ridurre ovviamente la spesa energetica delle famiglie delle imprese e anche di combattere la povertà energetica laddove si vadano ad inserire appunto criteri comunque qualcosa di nuovo ma forse non tanto per voi perché comunque venendo da quella storia lì ma infatti a noi veniva naturale affiancare un po' queste iniziative però il fatto che anche si includano gli enti locali quella sia un po' una novità ed è molto importante perché come è stato detto più volte l'ente locale è un po' il garante di questo nuovo processo in molte occasioni dicevamo appunto uno strumento per combattere la povertà energetica quando si inseriscono dei criteri di ripartizione differenziati quindi se si prevede ad esempio un accesso prioritario ai consumatori vulnerabili o se si prevedono dei criteri di ripartizione differenziati quindi in quel caso si fa un ulteriore diciamo servizio è un'opportunità per promuovere l'uso razionale dell'energia poi lo vediamo anche dopo magari in una slide dedicata proprio al concetto di condivisione di energia in modo da massimizzare il risparmio ovviamente non è solo non si tratta solo di utilizzare l'energia che si produce ma anche di spostare i consumi magari di smettere i combustibili fossili spostando ulteriormente i consumi al piano di cottura e induzione o all'auto elettrica quindi è un processo diciamo che viene incoraggiato in qualche maniera dalla comunità energetica è un'opportunità interessante che è di costruire relazioni vantaggiose per tutti gli stakeholder che partecipano perché non è soltanto chi promuove chi ne fa parte ma è proprio tutta la rete che viene coinvolta nel processo di costituzione di attivazione poi anche questo lo vediamo poi è un'opportunità per favorire l'economia locale formare risorse locali in tema di energie e di gestione per esempio nel nostro approccio noi siamo cooperativa a finalità mutualistica e insistiamo molto su questo tema non ci proponiamo per realizzare anche gli impianti o per gestirli ma l'idea nostra è quella di formare le risorse in modo che siano il prima possibile autonomi chiaramente il primo anno tutti dicono dateci una mano perché è nuovo per tutti figuriamoci per dei comuni cittadini che fino al giorno prima non si occupavano del tema però l'obiettivo è quello di sganciarli di fare in modo che siano autonomi che quindi queste competenze restino nel territorio e anche appunto le imprese i progettisti gli installatori tutti i soggetti coinvolti e poi appunto nell'idea nostra la comunità energetica l'aspetto energia diventa un po' un di cui di un progetto molto più ampio nel senso che gli aspetti sociali possono essere molto stressati e questo pretesto di aggregare insieme tutti questi soggetti può essere solo l'inizio di progetti virtuosi che possano riguardare la gestione di altri beni comuni o temi che riguardano la sostenibilità o progetti comunque che combattano lo spopolamento soprattutto nelle aree interne che favoriscono la rigenerazione dei territori insomma si può fare moltissimo dipende proprio dalla volontà di chi partecipa qui ho messo una slide sugli obiettivi del millennio in realtà ho solo oscurato quelli che di fatto sono un po' in secondo piano ma come vedete sono tanti gli ambiti in cui può agire una comunità energetica al di là dell'autoproduzione e dell'autoconsumo qui va bene non serve soffermarmi perché è stato detto un po' le differenze tra i due regimi questo volevo invece enfatizzare un attimo il tema dell'energia condivisa proprio per insistere sul fatto che deve essere configurata in modo adeguato qui abbiamo una simulazione di un impianto della produzione di un impianto di energia in un giorno d'estate dalla mattina alla sera quindi dalle 7 alle 20 le barre verticali sono la somma dei consumi dei membri di una comunità quindi quello che capiamo è il tema appunto dell'istantaneità in ogni ora tutta l'energia che andrò a utilizzare prodotta dall'impianto sarà energia condivisa tutta quella che io assorbo in quell'ora eccedente andando oltre diciamo alla produzione dell'impianto la sto prelevando dalla rete quindi chi partecipa deve essere molto consapevole del fatto che per esempio adesso che l'energia costa molto quando andiamo nella barra arancione stiamo magari siamo convinti di usare l'energia del sole quindi di risparmiare in realtà stiamo andando a spendere molto quindi anche a questo proposito le piattaforme i sistemi di gestione appunto dell'energia e di consapevolezza ora per ora di quello che è la produzione di quello che è l'energia a disposizione è importante ed è importante appunto tararla l'obiettivo nostro non è di partire con saturando diciamo il 100% della produzione perché se no significa che non si può fare nessuna azione di miglioramento mentre l'idea è quella magari di partire intorno all'80% e stimolare il cambiamento del comportamento la lavatrice non la faccio la sera la faccio di giorno magari appunto comincio a ragionare di mettere una pompa di calore anziché utilizzare la caldaia a gas questo è una slide di un rapporto di elements commissionato da Lega Ambiente in realtà probabilmente rifacendole adesso queste proiezioni sarebbero un po' diverse qua fa capire quanto ci si attende dagli autoconsumi dai progetti di autoconsumo tra individuale collettivo e comunità energetiche da qui al 2030 e qui fa un po' capire di quei 14 gigawatt e mezzo qual è diciamo il ruolo delle varie categorie di soggetti e nella slide successiva fa vedere anche quello che è il risparmio atteso sicuramente rifacendo questi studi oggi quindi non quando sono stati fatti però casa e condomini sicuramente preponderanti rispetto agli altri come sicuramente il risparmio per una famiglia può essere appunto vediamo fino al 25% nella bolletta e questi numeri sotto io credo che probabilmente sarebbero più elevati fatti oggi con i costi di oggi nel senso che c'è una maggiore sensibilità una maggiore attenzione quindi penso che i progetti sarebbero più come dire raffinati e andrebbero più nel profondo noi nell'affiancare i soggetti che appunto sono motivati a fare una comunità energetica seguiamo queste cinque fasi la prima fase lo studio di fattibilità si inizia dalla fattibilità tecnica quindi si analizzano i siti potenzialmente idonei per valutare quanto siano effettivamente idonei quanta potenza si può andare a installare ma allo stesso tempo si fa la parte diciamo sociale di analisi di mappatura degli stakeholder del territorio ci possono essere anche dei soggetti come gli attivatori sociali come altre diciamo reti formali informali che possono essere coinvolti in questo processo di attivazione possono essere formate perché magari appunto sono attive socialmente stimolano la cittadinanza attiva ma magari non si occupano di energia quindi anche lì è un percorso di crescita poi c'è la parte una volta che si è stabilito si è conclusa la fattibilità si capisce quanta potenza si andrà a installare quindi quante utenze potranno essere soddisfatte si fa la campagna di sensibilizzazione per i cittadini quindi si portano dei numeri un po' chiari un po' trasparenti e precisi su quello che effettivamente potrà essere il beneficio in base ai costi anche di manutenzione previsti per quegli impianti e si raccolgono le manifestazioni di interesse quindi si analizzano i consumi di tutti i membri che partecipano allora ti chiederei di avviarti alla conclusione però no no però volevo farti una domanda rispetto a queste campagne promozionali tra virgolette comunque di divulgazione che riscontri vedete nella cittadinanza beh non sono più che campagne promozionali noi rispondiamo a delle richieste quindi ci viene dato un incarico di consulenza da parte dei comuni e i comuni affianchiamo i comuni e c'è tantissima domanda sì sì tantissima noi abbiamo quotidianamente comuni che ci chiedono di fare un incontro online per capire di cosa si tratta per capire se può fare il caso loro poi comunque ci sono le varie fasi fino alla costituzione questi sono i progetti che abbiamo in corso se si andasse nel portale del GSE non li si troverebbe nessuno perché non sono ancora allacciati gli impianti e non sono registrati però per esempio quelle due sarde di Villanovaforro e Ussaramanna sono state costituite l'anno scorso una a 63 membri e una questa la devo saltare purtroppo 62 soci fondatori quella di Ussaramanna e l'altra ne ha 35 sono state costituite l'anno scorso ma ancora gli impianti non sono stati allacciati Ussaramanna nel sud della Sardegna questa a Biccari in questo caso è proprio un progetto che ha l'obiettivo di combattere la povertà energetica quindi gli impianti sono sulle case popolari e questo lo andremo a costituire la settimana non la prossima quella dopo abbiamo già fatto tutta la prima parte in questo caso abbiamo formato un socio attivo dato un incarico a una persona che incontrasse le famiglie proprio del quartiere del case popolare anche in questo caso per sensibilizzarle e promuovere questo invece è un progetto gli ultimi insomma visto che appunto quello che ci chiedevano le esperienze dirette promosso da Lega Coop Romagna in questo caso abbiamo presentato diciamo questo format con l'idea di presentare alle cooperative della Lega questa possibilità e orientarle nel capire se per loro faccia sia la risposta giusta sia la comunità energetica o l'autoconsumo individuale o il SEU o l'autoconsumo altrove cioè in ogni caso andiamo a capire qual è la risposta in base alle esigenze e si cerca di far incrociare domande e opportunità come considerazioni conclusive appunto l'abbiamo detto quali sono gli obiettivi il ruolo degli enti locali abbiamo visto essere assolutamente centrale e nell'ampliamento ovviamente la cabina primaria apre la possibilità di ulteriori servizi per le comunità energetiche e l'ultimo tema che a me sta a cuore e che appunto non ho potuto affrontare prima le risorse del fondo del PNRR sono finanziamenti a tasso zero nel caso in cui ad aderire siano le famiglie quindi nel caso in cui ci sia l'esigenza di andare ad aiutare a ridurre la spesa energetica delle famiglie sarebbe importante che quelle risorse fossero a fondo perduto perché se io devo andare a restituire il capitale non posso dare quel beneficio di riduzione della spesa energetica che è quello che si attende il membro che è interessato a partecipare qui mi fermo grazie mille grazie mille chiedo al dottor Fabri di raggiungermi dottor Fabri direttore centrale mercato di RSPA e amministratore delegato di Est Energy ecco qua buonasera grazie buonasera attenzione attenzione ciao lei interviene per spiegarci un po' appunto i modelli di sviluppo e gli aspetti economici di quello che avete in mente o comunque che avete già proposto sì questo tema delle comunità energetiche è un aspetto sociale filosofico ma poi tutto quadra deve quadrare se c'è una sostenibilità economica perché finché ragioniamo di investimenti o meglio finanziamenti e fondo perduto allora è chiaro che la sostenibilità la troviamo però se dobbiamo immaginare anche di avere degli investimenti finalizzati allo sviluppo di queste comunità con qualche ragionamento dobbiamo farlo io vado veloce perché tante cose le abbiamo dette gli obiettivi ne abbiamo appena visti qui si parla di 1,1 gigawatt di potenza installata all'anno dal 2030 in avanti sulle comunità energetiche quindi a impianti diciamo da 50-60 kilowatt che sono quelli delle prime 20-25 comunità insomma è esatto queste le saltiamo queste le saltiamo questo va bene l'abbiamo già visto l'energia condivisa e vengo qua allora questo del tema dei soggetti della comunità energetica è un tema soggetti e ruoli è un tema rilevante lo ripassiamo un attimo l'abbiamo visto prima perché nell'incontro del GSE l'avevamo visto ma perché poi ci serve per capire qual è la responsabilità di ognuno e quale ruolo deve agire ognuno chiaramente i membri abbiamo chiaro chi sono abbiamo capito e conosciuto chi è la figura del referente quindi questa sorta di piccolo amministratore delegato della società nella forma giuridica che ritenevo più idonea anche la forma giuridica non è indipendente dalla dimensione e da come è strutturata questo assetto la parte del proprietario dell'impianto e qui vediamo iniziamo a pensare a chi investe questo proprietario può essere la CER che investe direttamente o può essere un esterno la CER che poi dà l'impianto in gestione il produttore se l'impianto è di grandi dimensioni c'è un ruolo importante del produttore che è quello che ha riconosciuto all'officina elettrica intestata quindi ha anche un ruolo formale per il sistema c'è poi il fornitore di servizi tecnici amministrativi cioè il referente deve fare una serie di attività non ultimo aggregare i consumi e distribuire gli incentivi percepiti non ultimo gestire le intraesci dei membri e quindi sicuramente ha bisogno di un supporto tecnico per la gestione se prendiamo queste cinque figure noi abbiamo sostanzialmente due modelli una comunità energetica piena cioè dove tutte queste figure sono intene alla comunità energetica e quindi la comunità energetica rinnovabile ha dei membri che oggi pagano la loro bolletta energetica perché poi quello che dobbiamo ricordare è che l'energia condivisa è un sistema virtuale non è un sistema fisico e quindi ogni diciamo membro ha la possibilità di scegliere il proprio fornitore dell'energia e pagare la sua bolletta normalmente e i flussi non entrano nello sconto in bolletta possono servire per pagare la bolletta ma non entrano nello sconto a questo punto il primo passaggio è che la comunità deve fare l'investimento chi ci mette i denari allora voi immaginate una comunità fatta su un impianto un impianto un po' grande da un megawatt di mille famiglie duemila famiglie sarebbe l'ottimale che si mettono insieme e ognuno mette lì mille euro per fare l'impianto perché ci vuole più o meno adesso semplifico un milione di euro per fare l'impianto quindi chi è che dà questo milione di euro alla comunità energetica rinnovabile e poi soprattutto se la comunità energetica è una associazione non riconosciuta ha la possibilità di prendere un finanziamento chi glielo dà quali sono le garanzie quindi questo è il primo elemento però poi cosa arriva alla comunità a questo punto fatto l'impianto riceve il ricavo della vendita dell'energia elettrica che può essere fatto al GSE o sul mercato e riceve l'incentivo dedicato per la CER con questo incentivo cosa fa? paga il finanziamento e ripartisce con questo generale ripartisce l'incentivo ai membri della comunità qual è il problema? cioè fatta così la CER è una società economica c'ha uno stato patrimoniale con un milione di euro di capitale investito c'ha dei flussi economici che a largo circa sono 150.000 euro di ricavi all'anno e costi coerenti ammortamenti e dal punto di vista finanziario l'istituzione di un finanziamento che deve diciamo erogare nei primi dieci anni o tendenzialmente nei dieci anni quindi non è proprio una associazione non riconosciuta è una società vera e propria il referente è un membro della CER ma qua il referente è uno che deve conoscere queste cose non può essere uno dei mille che abitano vicino all'impianto magari abbiamo un commercialista ma non necessariamente può essere quello i finanziamenti l'operatività è significativa perché gestire mille 1500 utenti membri che vanno e vengono ha una sua complessità e c'è un tema fiscale perché questo è un tema un tema rilevante qui non voglio fare pasticci dal punto di vista tecnico però sostanzialmente la fiscalità diciamo dipende anche dalla struttura societaria che viene scelta cioè l'associazione non riconosce al di là del scegliere una struttura diciamo giuridica che sia rispettosa delle finalità della comunità energetica questa struttura giuridica la scelta di questa struttura impatta significativamente anche dal punto di vista fiscale faccio un esempio banale l'associazione non riconosciuta che è il modello più semplice quello meno costoso che anche non ha bisogno di andare dal notaio per ogni membro che entra e esce non ha bisogno di avere costi operativi significativi ha un basso capitale di attivazione quindi una roba semplice però non paga le imposte sugli incentivi perché questi sono esegni imposti ma se l'energia transita attraverso la comunità energetica paga le imposte non come siamo abituati nelle società ai fini economici sul margine ma paga le imposte sui ricavi quindi il 30% 25% dei ricavi dell'energia vanno a finire in fiscalità e quindi li perdiamo dalla remunerazione di questo sistema non è soggetto diciamo IVA e quindi l'IVA è un costo come per le pubbliche amministrazioni quindi se ha delle prestazioni da pagare queste prestazioni non sono esenti IVA quindi sicuramente ha un mondo di fiscalità che in una società piena porta via metà di quello che è l'incentivo che viene dato per la comunità con una complessità molto ampia e quindi una bassa sostenibilità diciamo che non c'eravamo messi d'accordo in quello da dire io l'ho detto scoraggiato su un profilo legale la cosa dell'associazione lei da un punto di vista numerico e di sviluppo insomma sì è chiaro che l'associazione ha una serie di vantaggi ha una serie di vantaggi soprattutto se la comunità energetica è nell'altro modello che vediamo cioè un modello di service dove ci sono una serie di fornitori esterni che gestiscono e fanno diciamo le attività per la comunità energetica quindi rivediamo la comunità energetica in questo caso la comunità energetica non ha al suo interno il produttore il proprietario quindi non deve avere finanziamento non deve avere investimento e diciamo di fatto utilizza i servizi dall'esterno bene in questo caso l'investimento lo fa qualcuno che può anche non essere un membro della comunità energetica che poi dà l'impianto nella disponibilità l'energia va a finire al proprietario produttore per esempio e quindi il proprietario di chi fa l'investimento copre gran parte del proprio capitale investito della sua remunerazione attraverso direttamente il flusso energetico e qui già aiuta la fiscalità arriva un incentivo dedicato che quell'incentivo remunera di fatto tutti i servizi che vengono dati quindi anche i servizi amministrativi e viene ripartito nella quota residuale ai membri della comunità ecco rispetto a questo passaggio è chiaro che questo passaggio rende molto più semplice la struttura economica della società perché in questo caso l'associazione non riconosciuta anche dal punto di vista fiscale diventa uno strumento utilizzabile che non drena il 50% dell'incentivo molto snella referente più leggero e nessuna necessità di finanziamento fiscalità molto semplice qui c'è un problema che con gli impianti da un megawatt oggi l'esenzione fiscale o meglio la possibilità di avere all'interno della società un impianto da un megawatt non dà la possibilità di avere un'esenzione fiscale e quindi vengono conosciuti come ricavi anche i ricavi dell'incentivo tassabili e quindi non ci sarebbe quella esenzione quindi non so se 200 kilowatt erano legati alla dimensione precedente delle comunità energetiche quindi verranno aggiornati a un megawatt oppure questo sicuramente è un tema da vedere sono due anni che parliamo delle comunità ma in realtà ne parlavamo anche prima 26 progetti o insomma una trentina le abbiamo viste adesso qui a seconda delle fonti però insomma l'ordine delle decine è questo e tanti di questi sono stati finanziati con risorse pubbliche quasi tutti e quindi quali sono i punti critici rispetto allo sviluppo c'è un tema di attivazione c'è il modello è bello però pensare che 50 100 famiglie prima coppe nostra ha questo ruolo di facilitatore di attivatore ma sicuramente oggi pensare che un certo numero di famiglie decine di famiglie si mettano insieme a costituire una cerra senza un supporto qualcuno è un modello un po' difficile in forma giuridica ne abbiamo parlato in maniera importante chi effettua l'investimento è l'altro vincolo perché finché ragioniamo con risorse pubbliche a fondo per tutto è chiaro che è facile e sia l'energia prodotta che l'incentivo diventano un ricavo distribuibile e una risorsa per ridurre la povertà energetica ma quando quelle risorse lì finiscono perché devono finire perché se dobbiamo ragionare con un target di potenza installata di un giga all'anno dal 2030 non possiamo immaginare che lo Stato regali i denari o l'Unione Europea regali i denari per tirare su questi impianti quindi deve essere un modello che se vogliamo che abbia una grande penetrazione deve avere una sua autosostenibilità economica e bancabilità dal punto di vista economico i temi normativi abbiamo sentito oggi che settembre sembra la deadline per i decreti attuativi che diventano l'elemento fondamentale settembre comunque l'anno l'elemento fondamentale per sviluppare impianti di dimensioni un po' più ampie il seggetto referente deve essere un membro della CER ma siamo sicuri che non ci può essere solo una figura professionale si parlava prima del mondo delle ESCO ma anche di altri operatori che possono fare come gli amministratori di condominio non devono essere i condomini gli amministratori di condominio quindi è una figura professionale che possa non essere supportata o trovata all'interno della dimensione della comunità energetica i limiti sulla fiscalità li abbiamo detti e poi c'è tutto il limite tecnico di capire chi appartiene o chi fa riferimento alla stessa cabina primaria perché adesso prima c'è un tema rilevante che la connessione a una cabina primaria in realtà è un concetto astratto perché poi chi esercisce la rete che è tendenzialmente magliata decide quali utenze a seconda dei momenti e dell'assetto di rete fanno riferimento a una cabina piuttosto che a un'altra quindi anche questo aspetto se volete di secondo livello però è sicuramente un tema da vedere noi cosa stiamo facendo ci stiamo immaginando essendo noi fra tutti i soggetti che possono partecipare noi siamo operatori energetici e quindi non c'entriamo e quindi siamo gli esclusi che da un lato diciamo ha un senso rispetto alla razza della norma dall'altro rende dal punto di vista pratico lo start up di queste iniziative perché abbiamo visto che le competenze necessarie per fare lo start up di queste iniziative sono ampie le risorse sono significative se tu escludi diciamo l'ESCO e gli operatori energetici nel settore è chiaro che trovare quelle competenze anche a disposizione non è semplice quindi noi abbiamo cercato di immaginarci quello che stiamo facendo su alcuni progetti un modello in cui diciamo noi diamo questi tipi di servizi pur non essendo membri non avendo sicuramente l'ambizione di essere i decisori ma sicuramente i supporti della comunità e quindi in questo momento stiamo facendo quattro iniziative l'autoconsumo collettivo dove il proprietario per esempio del fotovoltaico e condominio perché così beneficia degli incentivi fiscali noi siamo i produttori forniamo i servizi tecnici per l'amministratore che è il referente ma qui siamo in un caso semplice quindi abbiamo un paio che siamo in fase di installazione e per cui a breve avremo l'attivazione del modello autoconsumo collettivo stiamo lavorando sui nostri clienti per proporre quello che sentivamo prima devi fare un impianto fotovoltaico non farlo sul tuo autoconsumo fallo sulla massima disponibilità e ti aiutiamo a costituire la CER in questo caso l'investimento è facile perché parliamo di piccole e medie aziende che possono che comunque avrebbero finanziato loro direttamente quindi finanziaranno direttamente noi possiamo fare il ruolo di produttore sicuramente fornire servizi tecnici e amministrativi oltre ad arrivare con lo statuto che abbiamo già iniziato a preparare e a disporre quindi una sorta di valigetta degli attrezzi per poter fare l'attività in questo caso è l'unico caso in cui facendo l'impianto all'interno della CER la piccola azienda beneficia degli incentivi fiscali che altrimenti non sarebbero appannaggio diciamo della loro categoria e poi abbiamo altri due modelli CER con capofila pubblica amministrazione e qui stiamo ragionando sia per questo che per quest'altro diciamo su due impianti già nel nuovo set da un megawatt e quindi in un caso su un'iniziativa che facciamo noi e in un caso diciamo su un'iniziativa insieme alla pubblica amministrazione per cui stiamo ragionando e lavorando per essere pronti in maniera tale da arrivare pronti all'appuntamento per cui se non vengono cambiate le carte in tavola rispetto a quello che ci aspettiamo e avere diciamo le iniziative diciamo fruibili nel momento in cui sono pronti i decreti attuativi grazie mille e chiamo il dottor Nassuato direttore commerciale di Legal Grid Europe per l'ultimo intervento buon pomeriggio in attesa delle slide intanto ringrazio noi abbiamo partecipato a questo primo evento a Padova come sponsor siamo un'azienda di Treviso un provider tecnologico che ha cercato di raccogliere la sfida diciamo delle comunità energetiche che come abbiamo sentito oggi diciamo il tema della complessità è stato sufficientemente citato quindi diciamo anche forse è fine di quasi scoraggiare chi ci può aver sentito ecco noi in realtà abbiamo diciamo lavorato investito anche sul creare un'infrastruttura digitale che è partita dall'idea e poi chiedo scusa il telecomando grazie è partita dall'idea dell'ottimizzazione della gestione dei flussi energetici cioè la sfida nostra quando siamo partiti diciamo tra il 2012 al 2016 è stata quella di immaginare un mondo di generazione distribuita che sarebbe aumentato molto e quindi ci sarebbe stata la necessità di gestire in qualche modo orchestrare questi flussi di energia e fortunatamente poi nel tempo nell'arco di un paio d'anni sono arrivate le direttive europee e oggi abbiamo sentito ampiamente oggi quanto le prime normative siano pronte e siamo in attesa del finale ricepimento in questa ottica quindi la parte digitale gioca un ruolo secondo noi fondamentale lo gioca ripeto sia in un'ottica di ottimizzazione e gestione ma anche proprio in un'ottica di coinvolgimento e strumento per un accesso ai soggetti che parteciperanno alle comunità che sono per lo più consumatori quindi soggetti privati o anche PMI ma voglio dire soggetti normali fra virgolette non addetti ai lavori che devono poter avere possibilità di partecipare a queste comunità insomma in una forma semplice quindi in quest'ottica racconto per esempio la nostra piattaforma digitale come funziona come strutturata a grandi linee come da un punto di vista di architettura si basa su un dispositivo che è quello che vedete cerchiato che si chiama Snoku che sta per Smart Node Control Unit ed è un device di campo che si interconnette con gli asset energetici siano essi impianti fotovoltaici accumuli colonnine ma anche oggi col contatore il contatore fiscale infatti non è in grado di fornire informazioni sufficientemente frequenti e quindi diciamo ci sono dei dispositivi di misura come questi che appaiono più sotto da spina diciamo quindi da poter mettere in casa o da quadro elettrico che consentono di raccogliere i consumi perché servono queste informazioni servono per monitorare quello che avviene all'interno della comunità e per poter diciamo pilotarne gli elementi flessibili quali appunto pompe di calore colonnine o batterie e che possono diciamo quindi programmare il loro funzionamento anche in base alle esigenze effettive non solo del punto in cui sono installati ma di tutti i membri della comunità questo al fine di ottenere quello che si diceva prima cioè la massimizzazione dell'autoconsumo collettivo quindi questa è stata la spinta iniziale diciamo e da questa abbiamo derivato però una serie di servizi che cerchiamo sempre chiaramente più di ampliare proprio perché ci rendiamo conto che la digitalizzazione oggi se non viene portato in modo spintissimo in questo tema che è legato all'energia e quindi una grandezza misurabile e non viene diciamo portato poi a tutti gli attori che compongono la comunità difficilmente si riuscirà secondo noi a farle partire quindi vista da un altro punto di vista diciamo la nostra architettura va a intercettare per l'appunto consumi produzioni e tutti gli elementi diciamo che compongono la comunità e all'interno di un cloud poi ne gestisce diciamo una serie di funzioni di ottimizzazione proprio per migliorare le performance e comandare poi le stesse macchine e dire alla batteria scaricati la sera quando il condominio per esempio ha un bisogno di consumo e non rimanere in stand by come farebbe una batteria installato in un condominio oggi altro tema da citare ma rapidamente è un aspetto legato alla blockchain insomma ecco questo tipo di infrastrutture aiuta anche a certificare i dati e quindi a poter poi applicare anche altre diciamo aspetti quali diciamo gli aspetti per esempio legati alla riduzione della CO2 che quindi se vengono certificati attraverso delle infrastrutture possono essere spendibili in mercati volontari o non volontari e poi ovviamente l'obiettivo della piattaforma è interconnettersi con altri portali quindi per esempio il portale del GSE cioè nel momento in cui arriveranno e arrivano i report sulle prime diciamo valori di autoconsumo di una comunità è opportuno che questi dati vengano immediatamente elaborati gestiti e tradotti per un possibile amministratore di condominio in una reportistica spendibile per il consumatore finale per il condomino bene scusate eccoci qua rapidissimamente ecco un altro aspetto così su cui volevo così è già stato in parte toccato ma lo tocco rapidamente la parte di digitalizzazione tocca uno spettro poi di attività che vanno da quelle del dimensionamento quindi dalle simulazioni quindi capire prima come farla la comunità dove posizionare gli impianti è importante ovviamente trovare gli investitori che lo facciano ma a posto che ci siano gli investitori possono esserci punti diversi all'interno di un edificio oppure è opportuno collocarli dove c'è un autoconsumo fisico maggiore oppure no c'è tutta poi la parte chiaramente che segue lo sviluppo e la realizzazione la parte di aggregazione degli utenti la parte di attivazione della comunità energetica quindi tutte quelle procedure oggi che sono assolutamente ovviamente obbligatorie ma che devono essere accompagnate ecco da parte degli operatori che non sempre potranno essere grandissimi operatori strutturati molte volte potranno essere anche installatori studi di ingegneria che vogliono poterle realizzare con un percorso guidato un percorso aiutato ecco infine poi nella parte di gestione vera e propria crediamo che le analisi di performance così come appunto come si diceva prima la gestione ingresso e uscita se resa disponibile immediata attraverso un sistema digitale attraverso firme digitale attraverso tutta una serie di strumenti semplifichi le operazioni altrimenti troppo manuali troppo impattanti che difficilmente renderebbero sostenibile la comunità perché la comunità di fatto non è come Sara molte volte l'ho sentito dire uno strumento di lucro con cui si faranno guadagni diretti deve poter essere estremamente efficiente per ridistribuire i risparmi ai membri che ne fanno parte che hanno deciso di costituirla ecco questo è un esempio anche di tutte le cose di cui abbiamo parlato oggi questa è una casistica che abbiamo analizzato di recente dove si vede diciamo una zona adibita a possibile impianto fino a un megawatt quindi anche suddiviso in più taglie e zone di consumo che vanno dalle parti più residenziali sulla sinistra cerchiato in blu ad altre zone diciamo commerciali ecco tutto a dire c'è la parte anche di studio preliminare di analisi si basa su vari strumenti che diciamo fatti in maniera digitale attraverso piattaforme che lo possano gestire semplificano snelliscono e rendono più efficienti questo tipo di percorsi rapidamente quindi tocco le principali attività fatte dai portali degli strumenti di interfaccia quindi per l'amministratore come si diceva avere disponibilità una rendicontazione le regole di ripartizione di incentivi secondo noi sono codificabili in una serie di parametri ecco quindi una volta diciamo che la comunità discusso l'ha definito questo criterio può essere recepito all'interno di uno strumento che poi in base agli autoconsumi che sono stati effettivamente ottenuti ripartisca secondo le regole stabilite i vari membri proprio per non dover poi ecco andare a fare attività manuali ex post che sarebbero eccessivamente onerose ovviamente per l'utente fondamentale è avere anche utente passivo quindi un utente puramente consumatore avere uno strumento che gli possa far capire ora in questo momento live se mi conviene consumare perché la comunità ha un esubero oppure no e poi su questo avere in generale uno strumento per rendere questa comunità energetica un qualcosa di vivo di insomma di reale e non un pezzo di carta che viene fatto un giorno e poi ci si dimentica tutta la parte ecco di coinvolgimento poi degli utenti c'è le campagne marketing oggi si passa anche attraverso questo tipo di strumenti si vuole lanciare una comunità a Padova in una certa area dove ci sarà una cabina primaria bene cioè ci sono strumenti di marketing digitale che aiutano la raccolta dei profili e quindi a diciamo sensibilizzare la cittadinanza di questo tipo di iniziative quindi potersi iscrivere dare le proprie informazioni per aderire e partire ecco infine un altro aspetto che è uno degli ultimi che stiamo diciamo che è stato sviluppato da noi e che diciamo è un qualcosa di spendibile per utenti terzi siano per esempio utility ESCO o soggetti appunto che intendono fare le comunità energetiche è un portale che guida il servizio proprio di gestione vera e propria della comunità quindi a step guidando nelle fasi che vanno appunto dalla raccolta delle informazioni dei produttori alla iscrizione dei vari membri proprio per avere un processo guidato dalla Z che non faccia dimenticare informazioni per strada faccio un esempio se ci si collega una comunità energetica nel portale di GSE bisogna giustamente ricordarsi i seriali dei moduli esempio banalissimo dei pannelli fotovoltaici ecco quando uno li ha già installati nel tetto di un condominio gli dicono che deve farlo ecco diventa un qualcosa di per cui insomma non tutti si leggono le 140 pagine del GSE quindi queste attività servono a filtrare a rendere poi spendibili per gli utenti per la filiera un qualcosa di semplificato infine un concetto che si riallaccia a un progetto che stiamo facendo in Sicilia con altri partner tra cui l'Università di Palermo legato appunto a blockchain rinnovabili è il tema che è entrato molto in essere delle interoperabilità delle piattaforme quindi diciamo lavorare per poter interagire anche per servizi di demand response con portali scusate dell'operatore di rete o di Terna di altri soggetti proprio per diciamo ampliare sempre più la gamma di servizi quindi noi riteniamo che le comunità energetiche siano il fulcro dello sviluppo della generazione distribuita e che quindi da qui partiranno una serie di servizi che oggi diciamo non ci immaginiamo ma che sicuramente ci accompagneranno nella prossima decada quindi qua spero di aver chiuso in tempi ragionevoli complimenti assolutamente allora questo era l'ultimo intervento io intanto ringrazio i relatori anche quelli che sono intervenuti prima tra cui me stesso vi ringrazio ringrazio anche tutti voi spero che insomma sia stato abbastanza interessante grazie il prossimo evento qui è alle 17.30 però insomma nel programma c'è grazie ciao a dopo grazie grazie grazie